Ben ritrovati, come sapete questa l'anteprima del nostro programma Box Salute in compagnia del dottor Piero Mozzi e quindi adesso la telecamera puntata su di lui per parlarci degli ultimi fatti di cronaca, cronaca nera e fatti anche internazionali e anche fatti che ci riguardano da vicino di politica e finanza nel nostro paese. Benvenuto Piero, prego. Bene, benvenuti a tutti quanti, grazie a tutti quanti e viva l'anno nuovo, vediamo questa avventura del 2016 e niente, insomma, cominciamo con la solita agenda e sono successe un po' di cose in questo ultimo periodo adesso sembra che gli stiano stendendo un bella, neanche una coperta, un copertone sopra, una trapunta sulla questione delle quattro banche che praticamente hanno spazzolato ai poveri risparmiatori e li chiamo poveri risparmiatori perché sarebbe successo tranquillamente anche a me visto che a volte quando si va in banca ci si fida ciecamente dell'operatore bancario che si ha di fronte Ma così ci hanno insegnato da bambini che la banca era il luogo a cui affidare i nostri risparmi Perfetto. E dietro sicuramente ci sono dei progetti diabolici e qua bisognerà stare veramente attenti tra l'altro ho saputo che ultimamente la gente non ha più messo tanti soldi in banca come fino a prima di questi fattacci, quindi dovrebbero stare molto all'occhio. Ma il guaio è questo, che prima hanno spazzolato un po' di soldi con le azioni, cose che va bene, li mandano su, li mandano giù, la gente si fa attrarre e poi vengono spazzolati. Ma questa volta veramente hanno passato ogni limite, anche perché i responsabili non vengono presi, non vengono buttati in galera, non vengono spogliati, non vengono spogliati di tutti i loro averi e dati alle persone che hanno turlupinato. Questa è una cosa vergognosa, anche perché pare che siano successe veramente cose turche. Questi banchieri che davano finanziamenti a persone senza avere nessuna assicurazione che venissero risarciti, nessuno ha restituito un bel niente, ci hanno rimesso i soldi, la gente che aveva portato in banca i soldini. Quindi è una cosa veramente oscena, assurda e oramai stanno proprio stendendo come sta succedendo per tante cose, sembra che lì per lì se ne parla e sembra un grande interesse e poi niente, coprono tutto, coprono tutto e sicuramente finirà che queste persone andranno incontro a nessuna condanna, andranno incontro a vedere cadere in prescrizione i loro reati e tutto finirà lì. Hanno detto che hanno voluto salvaguardare i posti di lavoro, ma le persone turlupinate sono quasi dieci volte di più dei posti di lavoro che andavano salvaguardate e quindi è veramente una cosa nefanda, una vera schifezza, senza contare che ci sono implicate persone strettamente legate da vincoli di parentela, da componenti del governo. Per molto meno, Josefa Idem, brava tedesca, di origine tedesca, che ha regalato all'Italia tante, tante medaglie d'oro nei suoi anni per cui insomma tante competizioni, dalle olimpiade, i mondiali e tutto quanto, per molto meno, per quattro soldi si è dimessa dal suo ruolo di ministro. Evviva Josefa Idem e veramente a basso certe persone che avrebbero bisogno di essere molto molto più decenti. Quindi c'è da stare all'occhio e c'è da avere veramente paura, perché adesso col discorso che c'è un limite massimo di 100.000 euro al di sotto dei quali non si viene toccati, ma se uno ha qualche soldino in più e se per caso la banca, senza che nessuno avverta prima, va incontro a un default, a un fallimento, a roba del genere, viene spazzolato tutto quanto. E questa è l'Italia, questa è l'Italia dei furbi. Peccato che ci siamo illusi negli anni 90 con mani pulite, peccato. Quello che è arrivato dopo, altro che mani pulite, il peggio del peggio. E forse ce lo siamo meritati, perché davamo per scontato che i furbi venissero messi da parte, invece i furbi hanno capito come diventare ancora più furbi. Forza Italia, che con buona volontà ce la possiamo fare. E poi c'era... Internazionale adesso. C'era... si sono stati i fatti, i fattacci, insomma, quelli di Cologna, che forse hanno fatto sì che in Europa si cominciassero ad aprire gli occhi su quello che viene considerato un dovere morale. Non so se è un vero e proprio dovere morale. Facilmente, facilmente ci sono, tra le persone che arrivano, tante persone che hanno veramente bisogno, ma ci sono tanti, tanti furbi. Forse sarebbe meglio ospitare sicuramente i minori, ospitare le donne, ospitare gli anziani, ma tutti questi bravi uomini, in buona forma fisica, io farei in modo di munirli di vanga, zappa, piccone, badile e nei loro territori dissodano terreni. E si fanno dei programmi, dei progetti con i loro governi e si premiano i loro governi che mettono questi uomini forti, veramente in buona forma, a dissodare i terreni e a rendersi autonomi e indipendenti, altrimenti inevitabilmente si finisce come è finita Colonia. C'è voluto del tempo, i tedeschi però se ne sono accorti subito, immediatamente hanno preso provvedimenti. Chi compie dei reati li prendono e li spediscono. E in Italia invece, proprio di ieri, a Firenze, è stato trovato l'assassino. Va bene, ci può essere la stupidità delle persone che ospitano, però una persona che era assolutamente irregolare, che però subito entra nel giro, l'osco, del traffico di droga e subito entra nel giro l'osco che può tagliare il collo a chiunque. Quindi bisogna che su questi fatti ci si dia veramente una regolata. In passato abbiamo fatto qui una trasmissione, quando la questione era all'inizio, che per certi versi era anche commovente vedere queste tragedie che poi di mezzo ci andavano sempre le donne e i bambini. I bambini, sì. Di solito come è successo? Purtroppo i morti in mare continuano. I bambini poi sono stati... Le tragedie in mare, sì. Certo. Sono le prime vite i bambini. Ma allora lì c'è molta più possibilità di tirarli su, di allevarli, di educarli nel rispetto reciproco. Invece queste persone arrivano e secondo me molti assolutamente non dovrebbero arrivare. Chi ha bisogno lo si ospita, chi non ha bisogno li si dice, li imboccati le maniche a casa tua. Non è un discorso da leghista, non ho mai votato Lega e penso che mai e poi mai voterò Lega, ma penso che per nessun altro voterò, perché a questo punto cosa andiamo a votare che poi eleggono chi non è... e mettono solo il governo chi non è stato eletto. Però c'è questa differenza... Non sono proprio tutti uguali, però... Tra la Germania, tra la Germania e quello che invece succede in Italia. Però anche la Germania è stata, attraverso le politiche della Merkel, molto permissiva negli ultimi anni. Sì, certamente. Ha spalancato le porte, ha improntato anche la politica europea a questo, che tu ora definisci l'assismo, in passato l'abbiamo definito accoglienza in sostanza. Ma lì c'è stato questo ondivagare, perché prima sembrava un problema solo dell'Italia. E che sono maschi, sono giovani, in questo caso, nel caso della notte di San Silvestro, erano anche completamente ubriachi, perché rendiamoci conto. Poi l'uso a volte di stupefacenti... In barba certe religioni che vietano l'uso dell'alcol. Esatto, dell'alcol. In barba certe religioni. Anche questo va sottolineato. Anche questo va sottolineato. Anche questo va sottolineato, certo, non deve scappare. Così, per amore della cronaca e della verità, insomma, tra di loro c'erano anche europei, c'erano anche americani. Certamente. Forse non erano proprio mille, erano centinaia, ma c'erano anche decine di europei che si sono comportati male. Ma i balordi fanno presto a fare branco. Il rispetto per la donna è qualcosa che devono, la maggior parte di loro, a matrice islamica, devono ancora affinare, imparare. Sì, anche perché poi sembra che per una forma così di... per essere politicamente corretti, va a finire che si rinuncia a prendere le adeguate posizioni, gli adeguati provvedimenti. Ma questo non è una cosa che deve accadere. Quando ci sono in ballo delle questioni serie, severe, e che soprattutto fanno pensare che in futuro potrebbe succedere molto, in modo molto più diffuso, bisogna drizzare le antenne. Quando qualche anno fa abbiamo fatto questi incontri, io proponevo per le persone che venissero sparpagliate nel territorio. Perché se si lasciano nelle città fanno dei branchi incredibili. Allora può essere una grossa risorsa, prima di tutto una grossa risorsa nei paesi da dove scappano. E soprattutto qui una grossa risorsa, però sparpagliati in tutte le miriade di paesini, di villaggi, di piccoli borghi e in gruppi uno, due, non più di tre. E allora lì sì che può servire accogliere queste persone. Serve per il popolo italiano e serve a queste persone che potrebbero tirare fuori il meglio di sé, a imparare bene la lingua italiana, a imparare bene dei mestieri e allora arriverebbe la vera integrazione. Altrimenti lasciati allo sbando fanno dei branchi e diventano veramente un qualcosa di pericoloso. credo che dovrebbero svegliarsi. Fermo restando che l'accoglienza è un sacrosanto dovere verso chi ha effettivamente bisogno. Verso i profughi, quelli reali però, certo. Sì. Guardando poi quello che avviene... Tra l'altro che si pensano tutti i soldi che sono finiti in queste guerre, ma oramai credo che il pianeta sarebbe diventato tutto come la Svizzera. Si pensano tutti i soldi sprecati in Afghanistan, in Iraq, in Siria e adesso... Mamma mia! In Ucraina sarebbe... Il pianeta avrebbe avuto una possibilità veramente di far diventare tutto quanto come la Svizzera. Certo. E invece lo stiamo distruggendo, distruggendo il territorio, l'ambiente, i popoli, la gente, le persone. E l'ultimo invece è sempre abbastanza legato a questo fatto, Galera per avere sparato ai ladri. Hermes Mattielli muore dopo la condanna. È la storia del signor Hermes Mattielli di 62 anni, il quale dopo aver subito un'infinità di furti da parte di persone che lui faceva il rottamaio, ecco, gli andavano a spazzolare tutto quanto e dopo la decima la decima asportazione del suo materiale si è munito di una pistola ed ha sparato ed è stato condannato a versare 135 mila euro per il tentato omicidio di due ladri. I due ladri hanno subito una condanna di quattro mesi e invece il povero Hermes Mattielli si è fatto della Galera condannato a cinque anni e quattro mesi per difendere quello che era il suo posto la sua proprietà. Il compagno di mia figlia Esther che è tedesco si chiama Paul il papà di mia nipote Lea sentendo questa storia ne parlavamo proprio in queste serie dicevano no, non è possibile non è possibile che succeda una cosa del genere ma invece di condannare a cinque anni a dare la pena inversa a cinque anni e quattro mesi chi va a spazzolare in modo continuato la casa il deposito il magazzino di questo povero uomo che si vede non credo che fosse un criminale ecco e danni a lui quattro mesi hanno dato quattro mesi ai ladri e cinque anni a lui e per giunta poi è morto tutte le proprietà sono finiti a questi delinquenti a risarcimento veramente a risarcimento di questi ma dove può andare a finire un popolo io ho ospitato un bravissimo una bravissima persona rumena di nome Marian che uno poteva lasciare lì un pacco così di euro non li avrebbe toccati però lui mi diceva Piero ma lo sai che in Romania non aspettano altro che poter venire in Italia perché si passano la voce si passano la parola andate in Italia avete grosse garanzie anche se vi beccano non finite in galera invece in Romania batoste batoste il carcere è veramente duro quindi veramente siamo arrivati a uno stato di stupidità che farà brividire anche perché è finito è finito lo stato di diritto è finito tutto quanto se vengono premiati i ladri e se invece le persone oneste che cercano di difendersi non dico di arrivare come in America che uno ti può ammazzare se appena metti i piedi in casa di un altro però insomma dottor Piero finito stop hai finito basta non vorrei farti non ridire ma la pensi esattamente come Salvini le sue dichiarazioni collimano con le tue allora io considero non c'è niente di male quando considero sempre Antonella voi stessi avete subito il furto a casa vostra e uno scopre veramente com'è possibile che il lavoro quello che uno ci ha messo la passione tutto quanto perché deve arrivare della gente che in modo proprio impunito impunemente può rubare anche se viene beccata il giorno dopo è fuori non è possibile non è possibile perfettamente d'accordo ma mica tutti dicano le cose non è che il bene sta tutto da una parte e il male tutto dall'altra se c'è il signor Salvini che dice delle cose giuste bisogna dirli bravo Salvini dice delle cose giuste se dice delle cose sbagliate bravo smettere di dire delle cose sbagliate e comincia ma lo stesso a tutti gli altri ma su questo tanto per dire ma il discorso anche delle ronde che quando era stato messo in piedi sembrava una cosa ma adesso viene tirato fuori viene messo come non so contratto di solidarietà di vicinato e tutto quanto ma certo la gente deve imparare a capire che le cose comuni le cose il proprio bene la propria famiglia ma va difesa in qualche modo se le forze dell'ordine non ce la fanno ma ben venga ma come è sempre stato come è sempre stato basta allora io a mogliaccio ospitiamo tutti quanti tutti quanti però io quando ero bambino che vivevo in un'epoca veramente da paradiso a Bobbio nessuno chiudeva la porta chiave nessuno chiudeva la porta chiave però quando arrivavano certe persone non facciamo il nome arrivavano in paese certe persone tutti si passavano la voce e tutti chiudevano la porta storia che mi è rimasta impressa da quando avevo l'età della ragione 5 o 6 anni se no a casa mia fino a quando io avevo 20 anni non abbiamo mai chiuso la porta col chiavistello mai stop e sarebbe bello vivere così in tranquillità in fiducia sarebbe bello a posto stop finito concludiamo non diciamo chi erano queste persone ma che credo che tanti abbiano capito si se no si passa per essere razzisti eh si è molto ma un conto è essere razzisti veramente un conto è essere tonti ma c'è una via di mezzo perché a volte avere il cuore grande e generoso veramente ti porta poi a delle delusioni estreme infatti bene abbiamo finito quindi adesso può partire la sigla la nostra Carlotta è pronta anche lei e ci vediamo per il box e ci vediamo Oggi abbiamo scelto per questa prima puntata dell'anno un tema molto delicato, anzi in tutta sincerità quando il dottor Piero me l'ha proposto era un po' titubante, pensavo a qualche cosa di più generale. E invece riflettendo devo dire che è importantissimo perché in sostanza parliamo della vita, la vita di nuove creature. Guardate quando io ho partorito il 22 dicembre del 1977, molto tempo fa, ho partorito nelle prime ore della giornata, la donna che ha partorito prima di me aveva avuto un parto normale, bellissimo. Il bambino era già nella culletta, nella nursery e invece a distanza di pochi minuti, credo mezz'ora, è stata colpita da una forte emorragia ed è morta. Hanno fatto di tutto, hanno tentato di salvarla anche con un intervento chirurgico ma non c'è stato niente da fare, erano tutti disperati. Quindi è vero che in questo momento riguardo a queste numerose morti che si sono concentrate proprio nel periodo delle festività di donne morte per parto e anche le loro creature, tutti abbiamo pensato a incuria, a negligenza, a sottovalutazione di pericoli legati all'evento. Nel mio caso, nel caso della donna che mi ha preceduto nel parto, devo dire che c'era molta tensione, che erano tutti disperati, che l'evento è stato veramente molto drammatico e non lo dimenticherò mai. Questo per dirvi che in uno dei fatti più naturali della vita, che è il parto, nella vita di una donna, sicuramente possono subentrare alcune cose. Benché noi per anni ci siamo abbattuti affinché non diventasse un evento troppo medicalizzato il parto, perché è un evento naturale comunque, ecco, deve essere fatto comunque in sicurezza. E per avere la sicurezza la donna non deve solo affidare la sua vita agli altri, ma ci sarà qualche cosa che può fare, anche nel corso della gravidanza, ma anche prima della gravidanza, per prepararsi bene a questo evento che è la procreazione, sia da parte femminile che da parte maschile. E quindi questa sera gravidanza, perché è un momento decisamente importante, critico, diciamo in maniera superficiale, è un bombardamento ormonale. No, è qualcosa di più, perché noi stiamo dando la salute, stiamo dando la vita a una creatura. Una creatura poi che è dentro in un corpo e non è un self. E quindi pensate che il nostro corpo, quando siamo gravide, noi donne, risolve un problema che gli scienziati e i chirurghi, che hanno loro trapianti, non hanno mai saputo risolvere oggi, se non con farmaci pesanti che tengono sotto controllo il rigetto. La donna gravida è in grado di tenere sotto controllo il rigetto di una creatura che a volte non ha nemmeno il suo gruppo sanguigno. Pensate quindi com'è fantastica la natura e noi la dobbiamo aiutare affinché svolga bene il suo ruolo. E anche il parto è un momento critico. La donna ce la fa, il bambino è impegnatissimo anche lui, soffre anche lui. Però affinché le cose vadano bene bisogna veramente essere in forza, perché non c'è mai nessun momento che coincide, è il momento massimo della vita, ma coincide anche con la vicinanza massima con la morte. Non voglio spaventare nessuno. Sono donna, le mie figlie, una mia figlia, il mio figlio amico l'ha appena partorito. Quindi auguro a tutte le donne in gravidanza di stare benissimo, di avere buona salute e di fare un parto splendido, di avere delle creature sane. Ed è per questo che affido subito la parola al dottor Piero Mozzi, senza prima non aver salutato la nostra graziosa, ma soprattutto bravissima, Carlotta Chiappani, segretaria di redazione. Che ci ricorderà anche che siamo in diretta, quindi... Sì, sempre ricordo il numero, lo ricordo subito, che è 02-91-22-00-98. Ecco, il tema è dedicato alle donne, ma se qualche marito coraggioso vuole fare qualche domanda, qualche curiosità, ecco, il telefono è aperto anche ai quali... A tutti. A tutti, esatto. Sì, stasera daremo ampio spazio alle telefonate. Prego, Piero. Va bene, buonasera a tutti quanti, ci ritroviamo con l'anno nuovo. Speriamo che tutti abbiano passato bene questo periodo di feste e di vacanze natalizie. Sì, ci troviamo a parlare di questo argomento. Prima però vorrei dire alle persone che si muniscano, che è in ascolto, che si muniscano di penna e foglio di carta. Che poi dopo il primo intervallo devo dire alcune cosette. Certo, sono successe alcuni fatti che forse poi si sono concentrati in questo modo così proprio, in questo periodo natalizio, prima di Natale, questi decessi a raffica, uno dietro l'altro. E dopo il primo che sembrava che, sì, ogni tanto ci può essere un decesso, rientra nella casistica. Sono 50 i casi all'anno, più o meno nel nostro paese. Sì, all'incirca 3, 4, 5 al mese, secondo. Però adesso è successo proprio in questa fase dell'anno, quando si è tutti magari intenti a pensare alle feste di Natale, ai regali, allo stare bene, allo stare insieme, all'amicizia. E poi invece improvvisamente succedono questi fatti. E allora, sì, io ho pensato, forse varrà la pena riprendere in mano questo argomento. L'argomento della gravidanza, l'argomento del parto, il momento dell'allattamento. Perché è un momento critico. Già adesso è un momento critico per le donne riuscire ad avere la gravidanza. In quanto che i problemi della fertilità stanno sempre più aggravandosi. E sembra che diventi sempre più difficile per le donne avere proprio una gravidanza. E soprattutto una gravidanza regolare. E quindi bisogna, secondo me, riuscire a dare alcune informazioni. Anche perché in uno dei casi, quelle poche cose, perché poi non si riesce ad avere tutte le informazioni come sarebbe opportuno poter accedere. Però da quello che sono riuscito a captare dalle televisioni, dalle radio, dai giornali, è che una di queste mamme che è deceduta aveva avuto un aumento di peso di circa 40 kg. Ed è una cosa impressionante. Lì sicuramente, magari poi non è successo niente dal punto di vista dell'errore medico o tutto quanto, tutto è filato per il giusto verso. E però è successo perché doveva succedere. Ma certamente non si può lasciare arrivare una donna ad aumentare di 40 kg in gravidanza. Se si pensa che quando io ho fatto l'università, il professor Salvadori, titolare proprio della cattedra, ecco, ci diceva. Il peso ideale per una donna a termine, quando la gravidanza arriva a termine, dovrebbero essere 9 kg di aumento. E da 9 a 40, facciamo pure anche 10, facciamo pure anche 11. Ma arrivare a 40 kg vuol dire sottoporre a stress impressionante tutto quanto l'apparato cardiocircolatorio, l'apparato respiratorio, tutto quanto. Quindi lì sicuramente quando si vede che una mamma comincia ad andare su di peso, soprattutto su di peso nei primi mesi, bisogna intervenire drasticamente, drasticamente con una dieta severa, seria, proprio basata sulla eliminazione di determinati alimenti. E soprattutto alla fine, perché è possibile che per arrivare a quel peso e per arrivare poi alla conclusione che c'è stata, facilmente mi immagino che ci saranno stati problemi di gestosi. La gestosi è quell'insieme di fenomeni che si manifestano negli ultimi mesi della gravidanza, dal sesto mese in su, per cui oltre all'aumento del peso ci sono problematiche dovute all'aumento della pressione, all'aumento della glicemia, alla ritenzione di liquidi. E però lì, più che intervenire con farmaci che sono sempre pericolosi in gravidanza, lì bisogna intervenire con un'alimentazione più che corretta, più che severa. E allora si può ritornare indietro, non si va più avanti nell'aumento del peso e anzi addirittura si cominciano a eliminare liquidi, liquidi, liquidi. E quella è la strada da seguire. E quando si è in gravidanza, che si è in sovrappeso, che si ha la glicemia alta, che si ha la pressione alta, la prima cosa da fare è togliere assolutissimamente i cereali. Ma non i cereali col glutine, i cereali tutti, tutti quanti. Perché i cereali, soprattutto in una persona in gravidanza che poi più il peso va su e meno attività fisica riesce a fare, perché poi con 40 kg in più, qual è quella donna che riesce a muoversi e a camminare? Non ce la fa nessuno. Però togliendo i cereali e già comincia a scendere il peso. Togliendo gli zuccheri il peso comincia a scendere. Le glicemie, togliendo cereali e zuccheri, le glicemie si mettono a posto, le pressioni, soprattutto le minime, si mettono a posto, e poi di pari passo si passa a togliere tutto il resto che non va bene. Latte derivati del latte, che già quelli bisogna togliere nel modo più assoluto, perché se le donne si mettono a mangiare latte derivati del latte, già facilmente, facilmente subentrano pericoli e rischi riguardo alla possibilità di avere una fecondazione. Perché se si andasse a vedere, proprio le casistiche, nei paesi dove non si mangia latte derivati del latte, la fertilità è spaventosa. Riescono a fare figli anche se stanno morendo di fame. Non vorrei interrompere, però uno dei dati interessanti dell'Istat, come dicevi giustamente tu, si sta abbassando il numero delle nascite nel nostro paese per vari fattori, tra cui l'inalzamento dell'età delle mamme, che è sempre superiore ai 31 anni, la media statistica è quella, e i problemi di fertilità, sicuramente, sono nati nel 2014 509 mila bambini. E il contributo delle donne straniere, che di solito veniva considerato forte in termini di bambini, perché sono più prolifiche delle donne italiane, si sta abbassando notevolmente. D'accordo ci sarà un controllo del numero delle nascite, ma forse c'è anche il fatto che abbiamo uniformato l'alimentazione, quindi anche loro incominciano ad avere i primi problemi di fertilità. Adesso siamo tutti a meno di due bambini a testa, gli italiani poi sono a 1,30, cioè come se avessimo meno di un bambino e mezzo a famiglia. Perché le persone che vengono da altri paesi, soprattutto dai paesi del terzo mondo, sono avvantaggiate riguardo alla fertilità da un fatto, che in genere mettono al mondo i figli in età decisamente più giovane. E la fertilità a 20 anni è ben diversa che a 30 e sicuramente ben diversa che sopra i 35, addirittura che si avvicina ai 40. Perché mi trovo tante donne, ma tante donne che mi scrivono non riescono ad avere figli, guardo la data, guardo la data di nascita e scopro che magari hanno anche più di 40 anni. Non si può pensare ad avere il primo parto, la prima gravidanza a 40 anni, non si può. E' pericoloso, è pericoloso anche per la fertilità, è pericoloso anche perché ci possono essere state patologie, malattie che poi possano trasferirsi ed essere incamerati nel DNA e il DNA poi li mette dentro in quello che sarà il nuovo DNA del nascituro. E quindi bisogna proprio invertire la rotta, fermo restando che va bene, che magari non ci sia un'esplosione demografica come è successo in determinati periodi storici perché diciamo siamo 7 miliardi, va bene, se continuiamo a fare figli e poi addio a che numero arriviamo. Ma bisogna pensare che la natura ragiona secondo i suoi parametri. La natura ragiona con la sua legge suprema che è quella della selezione naturale, per cui può sembrare una cosa veramente, io poi non voglio assolutamente obbligare nessuno, io osservo, guardo e dico, i modi di intervento della natura sono quelli di produrre tanti semi e di quei tanti semi ne nascono solamente un poco di semi, tipo il soffione, il fiore del tarassaco, quello che prima ha quel bottone giallo che sembra un sole bello là e poi fa tutta quella palla, quella sfera, tutti quanti con i semi che hanno in loro paracadute, ma cosa pensate? Che di tutti quei semi lì nascono tutti quanti, ma non c'è pericolo. Ne nasceranno un po', altri non troveranno assolutamente la possibilità di inserirsi nel terreno, altri verranno beccati da uccelli o mangiati da un maco dei velmi e tutto quanto. Quindi la legge suprema della natura è quella proprio per permettere che ci sia per gli esseri viventi di trasmettere la possibilità di trasmettere una vita forte e robusta, è quella di selezionarli. Quindi è questa. Noi invece abbiamo invertito tutto quanto. Noi mettiamo al mondo, oramai soprattutto qua in Occidente, un numero limitato di figli, li mettiamo al mondo in età avanzata, poi compaiono già tutte le complicanze durante il parto, durante la gravidanza e soprattutto che poi possono acquirsi queste criticità durante il parto e ne mettiamo al mondo uno e magari quell'uno dei problemi di salute e dobbiamo fare i salti mortali per permetterli di andare avanti. Quindi abbiamo stravolto quelle che sono le regole del gioco della vita, secondo i parametri della natura. Certamente queste sono cose che non si impongono né per legge né per altro. Queste cose devono entrare nella testa delle persone e capire che se si vuole avere figli non bisogna pensarci a 35, 37, 40 anni. Se no il rischio di fallimento è elevato e il rischio di incappare in malattie per il feto è decisamente elevato e il rischio di incappare in seri guai durante il momento del parto è elevato. Vale solo per la donna o anche per l'uomo? È la donna la più risposta. Ma il problema grosso è la donna, il problema grosso è la donna. Siete voi che trasmettete la vita, siete voi la parte più importante. Non ti dico Piero, una notizia che mi ha fatto arrabbiare, che stanno sperimentando negli Stati Uniti la possibilità di ingravidare anche gli uomini. Ma sì, ma la stupidità umana oramai ha raggiunto dei limiti. Non capisco la necessità. Ha raggiunto dei limiti da rabbrividire, ma tanto non c'è. Sì, poi cosa faranno? Come la pecora dolli, che poi la pecora dolli è crepata ben presto, la pecora dolli è quella che praticamente è stata applicata, clonata. Va bene, ora restituiamo la linea alla regia per la pubblicità. Ricordandovi però che siamo in diretta, Carlotta vi dà il numero subito e poi raggiungere la postazione. Le donne sono, aspetta, aspetta, sono le donne che devono stare in buona salute. Perché siete voi che nutrite con il vostro sangue per nove mesi questa nuova creatura. Siete voi. È per questo che bisogna andare molto, molto, molto a fare informazioni sull'alimentazione corretta delle donne. A partire dai primi mesi della gravidanza, che può essere proprio resa critica dalla nausea, dal vomito, da tante storie che poi possono incidere nell'ultima parte. Però in tutti i nove mesi un'alimentazione più che corretta. I maschi, cosa volete che c'entrano i maschi? Beh, al momento, diciamo, dell'accoppiamento però c'entrano i maschi. I maschi devono stare bene perché devono sapere che metà del DNA della nuova creatura è loro. Per cui se loro praticamente vanno a creare delle condizioni per cui si modificano i geni, devono sapere che determinate malattie e patologie per metà le possono trasferire al nuovo. Diamo il numero e poi... Esatto, ricordo il numero che è 02-91-22-00-98. Vi aspetto su. Allora, abbiamo affidato a Carlotta il compito questa sera veramente complicato, ma, cioè, complicato, no, insomma, importante, impegnativo, di controllare anche come funzioniamo in streaming. Poiché molti di voi si lamentano, quelli che non ci possono seguire attraverso il segnale, si lamentano che ogni tanto lo streaming li lascia a piedi magari con l'audio o anche incomincia a squadrettare. Incominciamo a puntualizzare quando succede, in quali orari determinati, quindi vediamo se succede o se invece avrete tutti una buona ricezione anche in streaming. Promesso? Promesso. Grazie, a più tardi, Carlotta. Buon lavoro. Eccoci qui. Prima di rientrare nel vivo della trasmissione vi vorrei ringraziare. Sapete che verso la fine dell'anno abbiamo fatto quella maratona, quelle tre lunghe serate, anche un po' stravaganti sotto certi aspetti, ma anche belle, mi pare che siano state di vostro gradimento insieme, e abbiamo effettuato una raccolta fondi. Qualcuno ha malinterpretato la cosa, pensando che sia stata come una richiesta di elemosina, che fossimo in gravi difficoltà economiche. Beh, i tempi non sono buoni per nessuno, soprattutto per l'emittenza privata. Noi televisioni veramente navighiamo contro corrente da parecchi anni, però non era assolutamente questo. Volevamo un riconoscimento per l'impegno e volevamo sentire un sostegno, una boccata di ossigeno proprio, un'iniezione di fiducia ed è arrivata. Da parte vostra è stata veramente una corsa alla generosità. Abbiamo raccolto quasi 10.000 euro, esattamente 8.500 euro attraverso l'Ibane, quindi attraverso il conto corrente, e circa 1.500 invece con la Paypal, perché sapete che quello rosicchia una buona parte della donazione. Qualcuno è stato veramente, io dico, troppo generoso, cioè in maniera commovente. Qualche di uno ci ha fatto sapere che lui pure navigava in acque un po' agitate e quindi aveva difficoltà e ha dato quello che ha potuto. Guardate, è stato meraviglioso. Impiegheremo questi soldi raccolti, naturalmente in materiale tecnico, migliorie, che rivedrete. Contiamo di avere delle cose interessanti che possono anche migliorare non solo il servizio per questa trasmissione, ma anche per darvi più informazione. Continueremo così. Grazie davvero, siete stati fantastici. Grazie anche a quelli che non hanno potuto dare niente, ma che continuano a guardarci. Prego, Piero. Va bene, beh, grazie anche da parte mia. Grazie, però io adesso voglio dire due cose, poi riprendiamo la trasmissione. Eh sì, eh. E quello che sto per dire è solo ed unicamente una mia iniziativa. Nel senso che già Telecolor mi avrebbero quasi proprio sconsigliato di dire queste cose. Ma ci tengo a dirle perché credo che sia arrivato il momento proprio di riconoscere il ruolo importante che ha avuto Telecolo nello sviluppo di questa trasmissione, anche di altre, ma di queste. e se si vuole che si vada avanti meglio, sviluppando meglio queste trasmissioni e dare continuità, proprio io lo richiedo espressamente. Un aiuto, che sia come un riconoscimento a questa emittente. Abbiamo assistito, adesso assisteremo perché ce li proprio spenderanno i soldi, attraverso il canone, le bollette della luce, ossia il canone della RAI, verrà messo automaticamente, rateizzato, ci hanno fatto sapere, sulla bolletta della luce. Quindi diventerà obbligatorio, obbligatorio pagare il canone RAI, anche se uno, come il sottoscritto, come me, non ha la televisione e non guarda la televisione. Quindi io adesso vi chiedo una cosa. Ci sto mettendo un impegno grande, grandissimo, ce l'ha messo l'emittente, ce l'ha messo la proprietà, ce l'ha messo Antonella, ce l'ha messo tutti i tecnici, però credo di averci messo veramente tanto, tanto impegno, anche le tre serate che penso che per me sono state belle toste, perché quando finivamo qua praticamente era luna, poi correre a casa come una satanata, anche con la nebbia. Quindi io mi impegno, mi impegno a portare avanti queste trasmissioni, a dare sempre il meglio, sempre di più, sempre cercare di soddisfare le esigenze delle persone. Però chiedo e richiedo, se no sono proprio disponibile a tagliare tutto quanto, a non farmi più vedere, chiedo che venga riconosciuto con un aiuto economico quello che Telecolo ha fatto e farà anche nei prossimi anni. perché se tutte le persone che utilizzano queste trasmissioni dessero un contributo di solamente due euro, ecco, si potrebbero fare tante tante cose belle, si potrebbe sviluppare molto di più questa trasmissione, dargli molto più spazio, dare molto più spazio anche alle domande che voi potete porre per telefono, però chiedo e ve lo chiedo io, io, non lo chiede Telecolo, lo chiede Piero Mozzi, lo chiede Dottor Mozzi. Quindi pretendo che sia riconosciuto questo proprio impegno che ci è stato messo e che ci verrà messo. Quindi, bonifico bancario su conto corrente, credenziali, la banca, spero che vengano mandati in onda, cassa padana, filiale di Cremona Porta Po, intestatario Telecolor S.P.A., e qua c'è la cosa diabolica del Liban, che sono uno sproposito, è per quello che vi ho chiesto, vi ho detto di munirvi di biro e foglio. I come Italia, T come Taranto, 8-7, D come Domodossola, 0-8, 3-4-0. Poi, altra serie di cinque numeri, 1-1, 4-0-1, 0-0-0, ossia 4-0. Poi, altra serie di quattro numeri, 0-0-3-4, gli ultimi quattro numeri, 0-4-1-8. Io garantisco che continuo a metterci un grande impegno, proprio per migliorare, per allungare le trasmissioni, però pretendo che sia dato il giusto riconoscimento attraverso un contributo economico a questa emittente. Perché, soprattutto in un momento critico come questo, se ci sono delle discrete disponibilità, si può migliorare invece che tagliare. Perché mentre tutti quanti tagliano, con un aiuto, un aiutino minimo, minimissimo, pensate, se anche solamente fossero 2 euro per trasmissioni, facciamo 10 trasmissioni, in più poi ci sono gli ex, gli intervismi, sarebbero 20 euro all'anno. E voi potete avere un servizio e soprattutto una grossa possibilità, anche perché ci saranno tempi più lunghi, possibilità di porre molte più domande, altrimenti si corre, si corre, si corre e poi non si può fare. Va bene, può bastare, credo. Lo pretendo, eh, lo pretendo, guardate, io non pretendo niente per me, non voglio niente. Io vengo qui a Telecolor, ringrazio Telecolor, ringrazio Antonella, ringrazio tutte le KIP, ringrazio tutta Cremona, ringrazio tutti quanti, non chiedo niente, non voglio niente per me, chiedo questo riconoscimento. Forza e coraggio. Va bene, io ringrazio moltissimo Piero Mozzi che si spende per noi. E la responsabilità è mia, unicamente mia, una scelta mia. E tra i nostri obiettivi ci sono tante cose che renderemo poi note, ecco, e magari nel corso dell'anno riusciremo anche a realizzare sicuramente cose che vi piaceranno. Allora, adesso torniamo a noi, Carlotta, come sapete, è già in regia, io sento suonare il telefono quindi molti di voi, spero non solo donne ma anche uomini, ma basterebbe anche a livello familiare che qualche d'uno si sentisse coinvolto da questo tema, che è davvero importantissima, la salute dei vostri bambini. Guardate, in queste settimane ho sentito cose anche molto drammatiche legate a notizie di donne che hanno partorito. Proprio all'ospedale di Piacenza è nata una bambina, a ridosso dell'autunno scorso, una bambina senza un braccino, perché anche queste cose succedono. Avete letto anche la notizia di quella bimba nata senza gli arti inferiori, nonostante fossero state fatte dalle ecografie nel corso della gravidanza. Succede anche questo e sono veramente delle tragedie, dei drammi per queste mamme, per queste creature. Così pure ho sentito di donne che hanno dovuto affrontare la scoperta di un tumore in gravidanza. Sono sempre più frequenti anche questi casi. Quindi guardiamoci dentro, vediamo di responsabilizzarci, di fare quello che possiamo, perché nella vita poi c'è anche una componente di fortuna e sfortuna. Però tutto quello che possiamo fare è imparare a mangiare bene, imparare ad arrivare proprio alla causa primaria della salute, che è il cibo che introduciamo. Tra l'altro è successo proprio di questi giorni qua il caso di quella ragazza, giovane donna di 20 anni, che è deceduta durante l'intervento per un aborto. Quindi prima abbiamo parlato delle donne che sono avanti con gli anni, che cercano la gravidanza dopo i 30, 35, vicine e 40 e oltre e qua però è successa una giovane donna di 20 anni. Mi farebbe sempre piacere sapere le abitudini, le abitudini alimentari, sapere il perché e il per come. E oltre il fatto casuale che ci può sempre stare, oltre all'errore medico che ci può sempre stare, però sapere quali erano le situazioni, la condizione alimentare, le abitudini alimentari di queste persone. Nel caso di questa giovane donna e poi nel caso di tutte le donne che sono morte. vittime. Quindi questo, ecco, riguardo a questi fatti, perché ci può stare, ecco, la storia dell'errore medico. Su questo figuriamoci, tutti quanti possono sbagliare. Possono sbagliare. Fermo restando che ci sono errori ed errori. Tra l'altro, sul quotidiano Libertà, in data di Piacenza, in data 14 giugno, era uscita una lettera dell'Ordine dei Medici della provincia di Piacenza e tra le altre cose veniva detto. La medicina poi non non è una scienza esatta, nella quale esiste un solo modo di agire correttamente, ma un'arte, un'arte, nella quale ogni medico esprime la propria formazione ed esperienza, unite alla sensibilità e di intuizioni sue proprie. Pensate, mi fa piacere leggere questo. Mi fa piacere come? Perché adesso che viviamo in un'epoca di sbornia scientifica, dove praticamente, se non c'è un qualcosa che ha un attestato scientifico, che poi non si sa bene che cosa sia scientifico, praticamente nulla ha validità. E invece si scopre che la medicina non è una scienza esatta, che già lo si sa, ma un'arte. Ma quello è lo stesso Ordine dei Medici che ti ha? Questo, questo, che è uscito veramente in un modo incredibile, dopo che l'Ordine dei Medici della provincia di Piacenza mi aveva combinato la censura il giorno 8 di giugno. E dopo sei giorni è stato pubblicato questo bel articolo, dove si dice che la medicina non è una scienza esatta, ma un'arte. E se penso, ma anche nella trasmissione dell'altra sera a cui ho partecipato, sulla, ossia, porta a porta, ecco, è saltato fuori che la dieta dei gruppi sanguigni non ha nulla di scientifico. Deve, praticamente, questa storia della scientificità, deve, praticamente, ritornare nei limiti veri, reali e umani. Altrimenti, altrimenti si rischia di delegare tutto a questa scienza. E poi, non si sa dove effettivamente ci porta la scienza. Perché quello che era scientifico, venti anni fa, dopo vent'anni, ma forse anche meno, non è già più scientifico. Abbiamo fatto una bella puntata sulla scientificità, però oramai sta entrando nella testa delle persone che la scientificità è la condizione fondamentale ed essenziale. Per cui, forse, bisogna scendere giù dal pero, ragionare terra a terra, tenere i piedi ben incollati al terreno e la testa sul collo. E per quanto riguarda le persone, le donne in gravidanza, basarsi anche solamente sulla bilancia. Perché una semplice bilancia, a volte, è più importante di tutte le teorie scientifiche. Fermo restando che poi le teorie sono valide se hanno un riscontro oggettivo in pratica. Certo. Quindi, in gravidanza è fondamentale alimentarsi correttamente e ridurre l'uso dei farmaci. Poi, io sono decisamente proprio in gravidanza, già anche se una persona non è in gravidanza, dico sempre che prima bisogna arrivare alla causa. Tenere sotto controllo la pressione, la glicemia, il peso, la ritenzione dei liquidi e vedere che tutto proceda per il meglio. Certamente, attenzione ai dolori, attenzione ai dolori non solamente dell'addome, a livello addominale, dei fastidi. Attenzione alle perdite, attenzione anche ai mal di testa, che possono essere preludi o di un qualcosa di decisamente severo. Attenzione alla temperatura, attenzione ai battiti cardiaci. Per misurare i battiti cardiaci, come quando avevamo parlato sulle tachicardie aritmie, bastano due dita alla gola. Si cercano al lato delle parti molle, praticamente, e lì si sentono i battiti con estrema precisione. Quindi, già questi minimi controlli possono essere fondamentali. Poi ci sono tutti i controlli che adesso vengono fatti nei centri ospedalieri dove si prendono in cura le donne, le ecografie, le analisi del sangue, tutto quanto. Controllare l'anemia, che questo è sempre fondamentale, controllare che l'emoglobina sia a dei livelli accettabili, almeno almeno che non sia. Ecco, ma questa anemia che colpisce spessissimo. Guarda, veramente dovrei fermarmi perché c'è la pausa pubblicitaria. Se possiamo, alla ripresa, tra una telefonata e l'altra, parlare proprio, ad esempio, dell'anemia che è molto ricorrente nelle gravidanze che costringe le donne anche a volte a fare delle cure apposite. Ma l'anemia è semplice, che lo diciamo subito. Poi magari cominciamo a prendere qualche telefonata. La causa principale delle anemie, come avviene anche nelle persone, anche nei maschi, non solamente nelle femmine, non solamente nelle femmine in gravidanza, i responsabili principali, secondo la mia esperienza, secondo la mia scienza e conoscenza, che non lo do come un valore assoluto, ma poi lo si vede, perché per verificare si rimuove la causa, quella che viene ritenuta la causa, e poi si fanno di nuovi controlli. Il latte e i derivati del latte sono i maggiori responsabili dell'anemia. E poi, secondo battuta, i cereali con il glutine. Quindi, già togliendo questi alimenti, è facile, è possibile, però il riscontro ce l'abbiamo solamente quando facciamo le analisi, che le anemie in gravidanza non diano nessun problema. Ci fermiamo qui, ma per pochissimo tempo, restate sempre in nostra compagnia, siamo in diretta, potete anche telefonare, saremo anche abbastanza morbidi, quindi soprattutto gravidanza, parto, anche post-porperio, si dice così, quando c'è ancora un periodo abbastanza in cui bisogna stare guardinghi, perché ci potrebbe essere altro pericolo in vista. e se avete altri problemi urgenti, però, fatevi passare lo stesso. Bene, eccoci qua, siamo pronti per le telefonate. Quindi chiediamo alla regia di metterci in contatto col primo telespettatore o telespettatrice e il dottor Piero Mozzi risponderà. Questa puntata è dedicata, come sapete, alle mamme e alle loro creature in arrivo. Quindi, riguardo all'alimentazione, deve essere attentissima. I primi tre mesi possono essere proprio segnati da grossi problemi di nausea. È vero. E lì già può cominciare il calvario della gravidanza. Poi, in genere, a partire dal quarto mese, le cose migliorano. Però, in questi primi tre mesi, le donne che avvertano questi fastidi digestivi devono stare attentissime, perché anche all'interno degli alimenti che, in teoria, vanno bene in base al proprio gruppo sanguigno, ce ne può essere qualcuno che non lo è assolutamente. Quindi, anche se l'alimentazione si restringe, si diventa limitata, ma ben venga un'alimentazione limitata, basta che permetta una corretta digestione senza incappare in problemi di nausea. Ci sono telefonate? Interveniamo. C'è già, c'è già una telefonata. Va bene, a posto. Sì, salve, sono Luisa, chiamo da Roma. Buonasera, signora. Benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Posso solo chiederle... Voglio fare una domanda al dottor Motto. Certo, subito, subito. Posso solo chiederle come ci sta seguendo, in streaming o dal canale? In streaming, in streaming. Ah, ok, sì. Va bene, e viva Roma. Guardi, l'altro giorno ho fatto una bella camminata, avevamo come un amico che ci ha fatto da guida per Roma, città stupenda, strepitosa, però dovete tenerla più a posto. C'è un patrimonio strabiliante, un qualcosa che effettivamente, credo che nessun'altra città del pianeta abbia. È vero. Però, veramente, mamma mia, mamma mia, mi veniva voglia di passare un giorno a pulire le strade. Ci mancherebbe. È vero, è vero. Beh, ne ho raccolte un po', mi va bene. In ogni città, in ogni posto dove vado, io penso sempre che se ogni cittadino raccogliesse uno, due, tre o quattro cartacce o bottigliette, vi dicendo, credo che le città sarebbero decisamente più... Più pulite, è vero. Ha influenzato anche a me, lo faccio anch'io adesso, penso anche altre persone siano rimaste influenzate da questa cosa, questo consiglio semplice. Beh, adesso però lasciamo spazio alla gentile signora. Sì, allora, io mi trovo in gravidanza, sono alla sesta settimana, ho 37 anni, sono gruppo zero positivo. A che settimana è? Sesta settimana. Sesta settimana. Sì. E questa sua gravidanza che numero ha? Che numero ha? È la prima, la seconda, la terza? Sì, è la seconda. La prima l'ho persa due mesi a settembre, ho subito un rastiamento. Ah. Ho un utero fibromatoso. Ah, quindi la prima gravidanza è andata persa. Sì, è andata persa. E adesso è di nuovo all'opera. Va bene. Utero fibromatoso. Sì, ho un utero fibromatoso, ho 37 anni, sono alta 1,55 e peso 70 kg. Sono fortemente in sovrappeso. Allora, e da quando è che ci siamo messi in riga? Allora, è da un anno che io la seguo, ma non mi sono impegnata abbastanza. No, 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 ma infatti. Ecco, sì. Questo purtroppo lo devo ammettere. Ho comprato tutti i suoi libri, però faccio fatica a rinunciare al glutine. Ho già rinunciato da qualche mese ai lati. Latte ormai da un anno. bevo latte di soia alla maschina. Però ogni tanto, ogni tanto compro la fila delzia, che mi piace, ma veramente raramente. Però ecco, il glutine fa fatica. Nel senso che vuole provare l'ebrezza di un aborto? No, per l'amorizzazione. Vuole provare, tentare così poi la terza gravidanza? No, no, no. Ma non lo so, signora. Metta la testa a posto, poi decide lei, e ci mancherebbe altro. Però se già c'è stato a settembre un fatto che l'ha portato a un aborto, credo che valga la pena. Adesso metteci in grande impegno. Sì. Il papà del futuro nascituro, che gruppo ha del sangue? Zero positivo. Quindi siete tutti quanti zero. Lei, suo marito e il feto che lei porta con sé. Senta, si alza al mattino, si beve una bella tazza d'acqua tiepida? Sì. E al lavoro oppure a casa? No, sto a casa. Brava. E si vada a fare una bella camminata per quella città stupenda che è Roma. Sì. Ha capito? Sì. Poi, quando torna, si mangerà un poco di legumi, che in genere sono ricchi di ferro, che quindi la possono aiutare nell'anemia, e si mangerà del pesce. Ok. Quinoa non la mangi granché, ma fino che siamo ai primi mesi ci può anche stare. Si mangi, lasci stare, lasci stare assolutamente il glutine, lo lasci stare. Si mette a mangiare tutto al più del riso, ma soprattutto si mette a mangiare dei legumi, si mette a mangiare del pesce e la sua carne che deve mangiare. Quindi, a proposito di alimentazione, sempre e poi ogni tanto sui giornali se ne leggono di belle notiziole, c'era che negli astronauti, l'ultima missione dove c'è andata su la famosa Samanta Cristofoletti. La donna, sì, la Samanta. L'alimentazione che si sono portati con sé era prodotta da una ditta che si chiama ArgoTech, che opera in Piemonte. E qua il giornalista chiede a Davide Avino, che è il titolare di questa azienda, dice, anche lei mangia il cibo degli astronauti? Dice, soprattutto l'insalata di quinoa con sgombro e verdure e il riso con pollo e verdure. Quindi, nello spazio non ci va la dieta mediterranea, che contiene glutine e che contiene latticini. Nello spazio ci va la quinoa con il pesce e il riso, ossia il cibo orientale, con il pollo. Bene o male la quinoa va bene a tutti quanti, lo sgombro va bene a tutti quanti, poi c'è sempre il caso raro, ecco, l'eccezione, che però conferma la regola. Il pollo, che a parte le persone di gruppo B a B, va bene all'80% delle persone, quindi veramente si stanno modificando tante abitudini. È interessante, non ci abbiamo mai pensato seriamente. Questo è stato pubblicato, ma recentemente, lunedì 11 gennaio, sulla stampa. Molto interessante. Quindi, signora, vuole, visto che non è più proprio giovane giovane, 37 anni già, guardi, quando io ho fatto l'università, l'università a Parma, il professor Salvatore diceva che sopra i 30 anni le mamme erano già attempate. Adesso forse l'età si è spostata sopra i 35, però con quello che è successo converrà proprio metterci un grande impegno. Un'ultima domanda, dottore. Ma ci tiene a diventare mamma? Penso di sì. Eh sì. Ci tiene? Brava. Tanto. Brava, tanto. Allora, signora, non c'è sacrificio che tenga. Si metta a fare quello che deve fare. Sì. Un'ultima domanda, dottore. Avete l'abbacchio a Roma e siete diventati un impero grazie all'abbacchio romani. Ricordatevelo. È vero. Non con le lasagnette o le tagliatelle o via dicendo. Dai, forza. Mi dica. E un'ultima cosa, dottore. Mi vengono spesso durante la notte delle piccole contrazioni, dei dolori. C'è un alimento in particolare che possa aiutarmi per evitare queste forti contrazioni o evitare di ricorrere ai farmaci tipo gusco, panna? No, come per tutte le cose, come per tutti i fatti, anomali, lei si scriva che cena ha fatto quando poi di notte ha manifestato queste contrazioni. mi dicendo, stia attenta allora. Se già ci sono questi segnali, stia attenta. E se vede che saltando la cena, saltando la cena, dorme bene senza nessuna contrazione, ma va da letto senza cena. Mangerà un po' di più, anche tra l'altro di abbondanza di scorte ce n'è addosso. Quindi, signora, salti la cena, se vede che sta bene, se vede che dorme bene, se vede che si alza al mattino riposata senza le gambe gonfie, le caviglie gonfie. Va bene? Ok. Grazie mille. Tanto, quando sei in gravidanza non bisogna mangiare per due. Per due bisogna mangiare quando sei in allattamento. Ha capito? Sì. Ci siamo. Perfetto. Forza, coraggio, poi ci faccia sapere come è andata a finire. E ci mandi la sua foto col bambino o la bambina. Certo, ci seguiamo sempre, ci seguiamo sempre, grazie di tutto. Teniamoci in contatto davvero, grazie, grazie. Sì, grazie a voi, buon lavoro. Bene, in attesa quindi di un'altra telefonata, voglio chiedere, allora non si mangia per due durante la gravidanza, ma in allattamento sì? In allattamento sì. Lì è l'impegno maggiore per la donna. In allattamento è necessario, perché in allattamento, mamma mia, poi diventano delle pompe che aspirano tutto quanto, i bambini, magari le prime settimane, il primo mese, ma dopo, dal terzo, quarto mese... Infatti si vede che le donne dimagrire, si asciugano moltissimo allattando. Quindi questo è fondamentale, anche perché poi nel latte materno ci finiscono un sacco di proteine e per cui possono andarci di mezzo, ad esempio, i capelli che sono un concentrato di proteine e che poi si possono perdere sali minerali, per cui tutto quanto, articolazione, cartilagine, ossa, possono avere dei problemi. Quindi è fondamentale... Ma quindi mangiare il doppio proprio, come quantità, quasi il doppio... Quando si è in allattamento. No, beh, ma lì dipende intanto dal bambino in che fase è e tutto quanto. Però a parte che in allattamento poi le donne la fame la sentano come... Eh, ma sì, sicuramente, ma abbiamo una telefonata e poi magari ritorniamo su questo discorso. Che cosa esattamente, che cosa si può concedere una mamma in allattamento? Vediamo chi ci chiama ora. No, un'ultima cosa alla signora di prima. Ah, si è all'ascolto, eh. Signora, si dimentichi anche il più possibile, almeno il più possibile, i dolci e gli zuccheri, soprattutto quelli tipici di Roma, quei cornetti con le creme e tutto quanto, e alla larga anche dal cacao e dal cioccolato. Perché anche il cacao e il cioccolato, ultimamente mi sto rendendo conto che le persone ne fanno un uso eccessivo e quindi sarebbe opportuno proprio che venisse ridotto, soprattutto in gravidanza. Eh, sì, è vero. Purtroppo ci sembrava così innocente. Va bene, ascoltiamo allora... La seconda telefonata. Pronto? È pronto, buonasera. Anche a lei, signora. Da dove? Io sono Rossella e chiamo da Olbia. Da Olbia? Benvenuta, Rossella. Grazie. Dica. Allora, la mia domanda è questa. Io ho partorito tanti anni fa, sono ormai 12 anni. Sì. Mi sente, sì? Sì, bene. La sentiamo, signora. Ecco, io sono A negativo. Sì. Mia figlia invece, la seconda che ho avuto, è zero positivo. Sì. Dopo il parto mi hanno consigliato di fare questa puntura perché dovendo avere una terza gravidanza avrei potuto abortire, diciamo, essendo A negativo. Va bene, ma questo qua... No, io le voglio chiedere questo. Ma lei adesso quanti anni ha, signora? No, io ho 47 anni. Va bene, allora quindi escludiamo, anche se a volte ci sono stati dei casi di gravidanza. Però adesso non si può... No, io le voglio fare questa domanda perché subito fatta la puntura, io ho avuto un mal di testa fortissimo, sono uscita dall'ospedale col mal di testa e ad ogni mestruazione io, 15 giorni prima o durante, ho questi mal di testa fortissimi. Ma, guardi, signori, mal di testa ce li hanno quando arriva il ciclo anche persone che non hanno fatto queste punture che poi non so di preciso magari che cosa contene essere effettivamente. Probabilmente, signora, c'è da stare nel suo caso, probabilmente, facilmente deve stare molto attenta, nella settimana che precede il ciclo deve essere attenta, attentissima alla sua alimentazione. Deve essere proprio, non sgarrare, non sgarrare di una virgola, se sgarra, signora, sgarri fino all'inizio dell'ultima settimana, ma l'ultima settimana la faccia veramente in modo spartano, severo. E poi vediamo se effettivamente è stata quella storia di 12 anni fa, ma secondo me, io ho dei dubbi, però non si può mai escludere niente, ecco perché... No, perché io non ho mai sofferto fino ad allora. Eh, lo so, signora, ma sempre, prima di avere un problema si sta bene, poi arriva il problema e uno dice, ecco, da adesso comincio ad avere il problema. Certo, lei segue un po' attentamente la sua alimentazione? Eh, ho iniziato a seguire la sua dieta, sì, ormai sono un paio di mesi che ho iniziato a confermare nel tutto. E nell'ultimo ciclo, quando c'è stato l'ultimo ciclo? Eh, ci dovremmo essere tra poco, quindi dovrei avere la conferma in questi giorni. Tra poco, tra poco cosa vuol dire? Eh, doveva essere in questi giorni e non è arrivato, però ho seguito la sua alimentazione, ho levato i latticini. Sì, signora, si dimentichi dolci, zuccheri, soprattutto dolci cremosi e lasci stare anche il cioccolato fondente. Ok, però anche il glutine potrebbe essere una causa. Ah, certamente. Signora, il carasau lo lascia qualcun altro, a Olbia c'è tanto pesce, si mangia il pesce. Adesso è la stagione che sicuramente in Sardegna ci sono dei bei carciofi, si mangia dei bei carciofi. Sicori, radicchi e scarole non mancano e vediamo almeno la settimana che precede il ciclo. No, no, beh adesso sto cercando di seguire proprio alla lettera l'alimentazione, eliminando anche il glutine e quasi tutti i cereali. Va bene, forza. È che il ciclo viene una volta al mese, signora, non possiamo, ecco, verificarlo. No, no, ma io chiedevo a lei, visto che ha seguito tanto la tipologia dei sangue, mi domandavo se magari gli era mai capitato qualcosa così che poteva essere... Ma guardi, io penso di escluderlo che sia stato quella puntura di cui non so bene con precisione la composizione, insomma, quello che le è stato iniettato, signora. Quindi non è... vediamo. Va bene, io la ringrazio di tutto e cercheremo anche noi di essere sostenitori per... Ah, per forza. Se mi volete vedere, per forza. Se no, me ne sto a casa. Pensate, a casa, adesso vicino alla bella stufa di Cotto, mamma mia, appoggiato lì, che così mi viene un bel sonno. Magari... E allora dovremmo venire noi lì da lei per sentirla. Ah no, se venite a Mogliazze, al massimo vi metto a pascolare le pecore. E faremo anche quello. Beh, in Sardegna siete sicuramente esperti, forse anche più di noi. Quindi... Grazie, signora. Va bene, la salutiamo. Grazie di tutto, arrivederci. Ci mette impegno, anche perché, se ho capito bene, ha 47 anni, ha detto? Sì, sì, ho detto bene. Eh, allora signora, adesso, per amor del cielo, ma magari tra 4-5 anni arriva anche la menopausa, bisogna essere sforti. Tanti auguri. Esatto, grazie. Tanti auguri, signora. Passateci un'altra telefonata, se potete, una via l'altra. Grazie. Sì, sì, sì. Quindi le cose importanti sono veramente semplificare l'alimentazione. Quindi, severità anche per il cioccolato fondente, per il quale avevamo una sorta di lascia passare, però, in passato. Ma, guardate, io me ne sono accorto un anno e mezzo fa circa. Mi piaceva, mi piace il cioccolato fondente e poi mi sono messo a mangiarne quasi quotidianamente e poi mi sono trovato, mi sono trovato un inizio di morbo di Dupuitren, ossia l'indurimento del tendine che finisce proprio nel mignolo. Quindi, e ho visto che in genere era causato, ritenevo fosse causato principalmente dal glutine, dai cereali col glutine. Poi mi sono trovato questo e ho detto, eh, Piero, da dove salta fuori questa storiella qua, visto che tu di glutine ne mangi veramente poco e poche volte. Ed è stato effettivamente il cioccolato, per cui riducendo drasticamente il cioccolato... Eh, sembra innocente, ce lo consigliano per il cuore e per il buon umore, ma... Eh, ma... Nemmeno quotidianamente allora piccole dosi. Queste cose sono cose che uno deve... Sperimentare. Che uno deve. Guardare in attenzione. Sì. C'è un'altra telefonata? Penso di sì. E intanto colgo l'occasione per chiedere il perché. Non credo che sia una cosa ornamentale quella frutta che è al tuo fianco, dottor Piero. Questa qua non ne parliamo, ne parliamo alla fine. Ah, alla fine, quindi è una sorpresa finale. Adesso vi voglio leggere una bella mail che mi è arrivata, una cosa veramente fantastica, dal signor Giulio. Allora, questa l'intesta così. Dottor Mozzi, questa è una risposta assurda che ho ricevuto. Lei ha ragione, non è detto che le persone vogliono essere aiutate. Con ammirazione Giulio. Con la Vito, diciamo anche il cognome. Mi chiamo Giulio, ho 54 anni, diabete di tipo 1. Da tre anni non prendo più medicine. Ho scritto nel mio oggetto che non avete capito niente. Vi spiego il perché. Lui ha scritto una lettera a un'associazione che è guidata da una dottoressa che ha avuto la perdita del figlio a causa del diabete. E questo uomo dice, non è medico, non è farmacista, non è biologo, non è neanche infermieri. Le persone affette da diabete di tipo 1 sono programmate dalla natura per non toccare alcun tipo di cereale. Sono i cereali che scatenano la risposta immunitaria dell'organismo con la conseguente distruzione delle beta cellule del pancreas. Pertanto a vita vanno eliminati. E voi che fate nella pubblicità sulla RAI fate vedere panine prosciutto. Vi posso dimostrare davanti agli scienziati medici che 10 cucchiaini di zucchero bianco fanno alzare la glicemia. Ma una fetta biscottata o un piattino di spaghetti fanno arrivare la glicemia alle stelle, guarito dal diabete. E di tipo 1 addirittura? Sì, in memoria di puntini puntini il nome di questo ragazzo che è deceduto e a cui è intestata questa associazione. Abbiate il coraggio di dire che i cereali stanno distruggendo l'umanità insieme al latte. Questo riprende poi le mie cose, mi ha fatto molto piacere. L'uomo è nato con gli uccelli nell'aria, gli animali sulla terra e i pesci nell'acqua. Non è nato con le piantagioni di grano e di riso mangiando pasta al forno. Io ho l'abbonamento col macellaio, il fruttivendolo e l'ortolano e grazie a questi abbonamenti non prendo più 20 medicine. Invece di chiedere soldi su ricerche che non servono a niente dovete chiedere i soldi per fare una pubblicità, per dire i veleni che ci sono in giro, cioè i cereali e il latte con tutti i suoi derivati. Sono loro la causa di tutti i tumori. Quando i soldi della sanità saranno finiti dovranno dire la verità. Signor Giulio, la ringrazio per questa sua testimonianza importante, guarire dal diabete. L'altra sera ho provato a dirlo ma hanno subito tappato la bocca. La risposta di questa dottoressa, presidente di questa associazione, dice Gentile Giulio, prendiamo atto della sua posizione e siamo felici per l'andamento delle sue glicemie. Riguardo la memoria di mio figlio le segnalo come presidente dell'associazione e come mamma di assumermi sempre in prima persona la responsabilità di ciò che faccio e farò in assoluta buona fede insieme agli strumenti in mio possesso, avendo una laurea in medicina da più di 30 anni, speriamo tutti che la ricerca vada avanti in qualsiasi direzione, e qua c'è la tirata, fosse anche quella che lei propone, fosse anche quella che lei propone, non soprattutto in quella che lei propone visto i risultati che ho ottenuto, purché sia quella scientificamente corretta. Ci siamo fusi il cervello. Credo che non ci sia bisogno di commentare. Nemmeno di commentare. Telefonata. Stiamo parlando di diabete di tipo 1 addirittura, non di diabete di tipo 2 cosiddetta alimentare. Fantastica, stupenda, veramente eccezionale. Questa deve far riflettere molto di lettera. Sì. Allora la telefonata, pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera. Buonasera, volevo fare i complimenti per la trasmissione e anche al dottore. Volevo dire, io e mia moglie vorremmo avere un figlio, no? Tra qualche tempo. Lei ha fatto la visita dal ginecologo e gli ha consigliato di prendere una pastiglia a base di vitamina C, a base di acido folico, per evitare malformazioni, labbro leporino e schiena bifida. Allora, quanti anni avete? Allora, io 31, lei 28. Va bene, quindi è ancora in età decisamente giovane adesso, dati i tempi. Che gruppo del sangue avete? Allora, io zero, lei ha. Sua moglie sta bene? Sì, 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 meglio di me. Non ha problemi? No, no, no. Da quanto tempo siete accoppiati? Otto anni. Otto anni? Che bravi. Siete ancora insieme. Bisogna cominciare a darvi un premio di questi tempi qua. E da luglio siamo sposati. Ah, no, no, allora sposati ufficialmente da luglio. Ma vivete insieme da otto anni? No, da tre anni viviamo insieme. Morosi, avete cominciato ad essere morosi otto anni fa, insomma. Sì, sì. E poi da tre anni siete insieme. Va bene. Da quanto tempo è che cercate di avere un figlio? No, ancora non c'è, abbiamo il progetto nei prossimi mesi di provarci, insomma. Va bene. E allora? No, diceva che sì, la moglie è stata consigliata, perché si usa molto adesso, con un'integrazione di acido folico. Ma riguarda che cosa questa integrazione di acido folico? No, si fa per prevenire alcune malformazioni. In realtà l'acido folico manca un po' nel nostro ortaggio. Ma guardi, secondo me, se evita gli alimenti, si legge il libro, la dieta del dottor Mozzi, si toglie tutti gli alimenti che deve togliere, credo che non dovrebbe avere nessun problema. Anche perché non è scritto da nessuna parte che uno assumendo acido folico praticamente evita qualsiasi problematica. Però aiuta molto nel prevenire la spina bifida, questo sì. Sì. Proprio perché a volte c'è una carenza nella nostra dieta, ma anche e soprattutto negli ottagli. Ma secondo me la presenza di un qualcosa di liquido e bianco, che secondo me incide molto e moltissimo. Però ricerche scientifiche non sono mai state fatte, come mai. Eh, quello sì. Mai, forse, mai, spero no, spero che soprattutto in base a queste belle lettere che prossimamente vengono fatte, insomma, di vedere che relazione esiste tra l'introduzione di alimenti in gravidanza e nel periodo appena precedente alla gravidanza e lo sviluppo di determinate patologie. Basterebbe andare a vedere... Noi parlavamo prima delle malformazioni dei bambini, infatti. Basterebbe andare a vedere che incidenza c'è della spina bifida, per fare un esempio, nei popoli dove non si usano determinati alimenti che invece sono usati grandemente qui in Occidente. Dove queste patologie, queste problematiche invece ci sono. Quindi non la consiglio di prendere questa pastiglia. Voi dove abitate? A Lorate Pozzolo, Varese. A Varese. Lì vicino a Maltese. Guardi, lì vicino so che c'è un importatore di salmone, di salmone selvaggio. Secondo me, se vi dedicate al salmone selvaggio, fate, vi fate molto ma molto bene. Certo. Pensi, il salmone selvaggio vuol dire che è stato pescato, non è neanche stato allevato. Ho capito, ho capito. E la verdura giusta, e i legumi giusti, e le proteine giuste, e attenzione all'eccesso. Quanto siete alti e quanto pesate? Allora, io peso 72,5 kg e sono alto 1,75 kg. Sto seguendo la sua dieta, io, da un mese e mezzo. E la sua moglie? Dice mia moglie, 1,66 kg, 45 kg. Eh, allora lì sì che c'è bisogno di mettere su qualche chilo, non troppi. Per mia moglie? C'è bisogno di un'alimentazione corretta e un'adeguata attività fisica per vedere, visto che ha 28 anni e non si può fare ancora, potenziare un po' la muscolatura. Ho capito. Va bene. Ah, un'altra cosa, dottore, mi scusi, lei consiglia per una donna incinta di prendere l'aereo? Eh, non lo so, ma non dovrebbero esserci delle grosse problematiche. Dov'è che volete andare a fare dei viaggi? In Sicilia. Ma, allora, non avete ancora deciso se iniziare. E lei già si pone questo, ma vada così, vada adesso, vada adesso in Sicilia a mangiarsi tutto il pesce adatto a voi, ecco, che c'è in Sicilia, lei si mangerà gamberetti e pannelli. Perché è sua moglie? Mi piace programmare tutto, quindi lei c'è la sua agenda. Quindi programmate ancora prima di fare un... L'unica cosa che dovete programmare è decidere quando avere un figlio, velocemente. Forza e coraggio, dai. E' andata a letto senza pigiami, decisamente meglio. Sembra una barzelletta, ma ha un'importanza incredibile. Respirare l'aria fredda quando si dorme, guardate, anche non fa un inverno boia, freddo, però stamattina nella stanza dove dormo io con la mia bravissima moglie Veglia, avevamo 8 gradi. Ma lo sapete cosa vuol dire respirare l'aria fredda di 8 gradi che raffredda tutto quanto l'impianto di riscaldamento interno? Entra aria fredda e esce aria calda, entra aria fredda e esce aria calda e tutto quanto si disinfiamma. E per giunta andare a letto senza indumenti vuol dire che tutto il calore viene fuori sulla pelle. Viene fuori sulla pelle. E poi? Una coppia, siete a letto, uno vicino all'altro, se vi abbracciate, sprigionate un calore spaventoso. Un calore spaventoso, oltre che un istinto spaventoso. Forza. Quindi stanotte con la finestra aperta, devo dire. Da che ci proviamo tutti. No, spegnete almeno il termosifone. Va bene. Grazie, grazie mille. È stato bellissimo. Forza. Davvero. Veramente tanti auguri. Allora io non ricordo più ma mi pare di aver inteso che dopo questa telefonata c'era uno stacco pubblicitario. Corretto? Bene, allora lo osserviamo e... Attenzione, continueremo con una telefonata via l'altra ancora per un bel po', eh. C'è già? È già pronta? No. Allora, vi leggo questa qua, da Pierangelo. Ci devono fare la pubblicità, Piero. Ah, c'è già la pubblicità. La leggiamo subito dopo, eh? La leggiamo subito dopo. Dai, pronta quella. Siamo qua e aspettiamo subito la prossima telefonata. Intanto il dottor Piero Mozzi sta armeggiando con qualcosa, un sacchetto di riso integrale. Sì, sì, sì. E quindi... È stato messo in un misurino e che servirà dunque a qualche cosa. Sì, adesso allora prendiamo la telefonata. Sì, fatemi un cenno però, perché avevamo quella lettera ancora in ballo. Sì. Che il dottor Piero si porta sempre presto. C'è la telefonata però? No, no, va bene. Prima rispondiamo e poi analizziamo quella lettera. Prendiamo la telefonata. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera a lei. Da dove? Mi chiamo Giacomo e chiamo dalla provincia di Sondrio. Buonasera signor Giacomo. Buonasera. Volevo chiedergli sempre quanto riguarda una gravidanza. Io e mia moglie siamo 3-4 anni che cerchiamo di avere un bambino ma purtroppo non riusciamo. Io ci metto un mio impegno, faccio i miei compiti che devo fare e cerchiamo di seguire tutto ma non riusciamo proprio ad avere figli. Io sono di gruppo 0, positivo, mentre mia moglie è di gruppo A, positivo. Sì. Allora, quanti anni avete? Allora, io ho 40 anni e mia moglie ha 35 anni. Va bene. Non è fuori tempo massimo. Non siamo neanche ai tempi supplementari, c'è ancora un po' di tempo. Quindi, lei è gruppo 0 e la moglie ha detto? Gruppo A, positivo. Tutte e due positivi. Allora, a Sondrio. Sì. I latticini? Latticini, poco o niente. Il bitto lo lasciate perdere? Sì, il formaggio. Io no, mia moglie invece il formaggio lo mangia. Eh, e allora? Io no, io sono senza formaggio. Ma senta, i maschi sono responsabili della infertilità solamente nel caso di azoospermia totale. Azoospermia vuol dire A starebbe per alfa primativa. Azoospermia vorrebbero dire gli spermatozoi. Quindi, solamente in caso di assenza totale di spermatozoi, i maschietti non funzionano. Altrimenti, con un'alimentazione corretta, se fossero un po' stenici, gli spermatozoi, un po' pochi, con la coda, senza la coda o senza la testa, ma nel giro di pochi mesi si metterebbero a posto. Il più delle volte la questione è a carico delle forme infiammatorie che colpiscono l'apparato digerente e di conseguenza l'apparato genitale delle donne. Allora, ci tenete ad avere dei figli? Ah, ma certo. Allora, credo che valga la pena qualsiasi sacrificio a tavola. Poi non dico 60 anni, neanche 6 anni, 6 mesi. 6 mesi a rigare dritti. Il pesce in Valtellina non manca. Le trote, credo che ci sia pieno in Valtellina. Se non ci sono le trote, ecco, vi prendete il merluzzo, vi prendete il tono, vi prendete gli sgombri. Si dimentica, soprattutto sua moglie, i dolci e in particolare i dolci cremosi, perché sono micidiali per arrecare infiammazione. Un'altra cosa che volevo dire, volevo chiederle, sua moglie ha un ciclo regolare? Allora, ha un ciclo abbastanza regolare, un po' più lungo del normale. Un po' più lungo. Però è anche allergica al pesce, che lei diceva il pesce, purtroppo è allergica al pesce. È un po' più impreciso, perché i pesci sono un'infinità. Crostacci, mi sta riferendo a crostacci. Crostacci, certamente, uno di gruppo altro che se mangi i crostacci sta male. Se li mangia lei, se la cava decisamente meglio. Perché volevo dirle, dottor Mozzi, noi ci siamo anche riferiti a un centro nel Bresciano, dove abbiamo provato anche a fare tutti i controlli, tutte le cose, noi risultiamo a posto in tutto e per tutto. Abbiamo provato a fare anche delle UI o delle Fiver, ma non abbiamo avuto proprio successo niente. No, ma la cosa che c'è da fare è disinfiammare l'apparato genitale femminile. E per fare quello bisogna disinfiammare l'apparato digerente, con un'alimentazione corretta. Poi, come l'ho detto, io non ho in mano la verità assoluta. Io vi dico di provare di sperimentare. Comunque credo di avere una casistica molto, ma molto più valida che non quella che è in mano a chi propone la fecondazione assistita. Anche perché i risultati lì sono decisamente sotto il 30%, sotto il 25%, ma realmente credo che siano anche sotto il 20%. Però se sua moglie non entra in testa di metterci l'impegno almeno per sei mesi, secondo me sarà ben difficile che riusciate ad avere una gravidanza. No, noi la seguiamo spesso sulla trasmissione in Telecolor. L'ho seguita anche ieri sera su Porta a Porta e devo dire che non si sono comportati bene. Infatti io mi astengo al reality che hanno voluto fare ieri sera perché bisogna condividere tutte le cose, non solo fondarsi a testi, come dicono loro, scientifici o quali raglio. Come ha detto lei, ha i dati, i dati ci sono, non è che bisogna scrivere per forza su una rivista scientifica le cose per far sapere alla gente, diciamo, i risultati. Però vorrei sapere anche se seguendo la sua dieta posso, cioè mia moglie si può disinfiammare. E' per quello che chiedo, sei mesi, sei mesi. Guardate, il caso più eclatante, ti ricordi Antonella, la primissima trasmissione che facemmo? Febbraio 2004. Sì? Febbraio 2004. Dopo qualche giorno è venuto su. Era talmente tardi che io ero, ero rimasto io da solo in cucina moglianze, ecco, a cenare. Ma era il mese, il mese di febbraio. C'era questa donna, originaria di Piacenza, che per vent'anni gli avevano detto che lei non avrebbe potuto avere figli, perché aveva le tube chiuse. Si è messi in riga di brutto, a gennaio, a gennaio dell'anno dopo, aveva in braccio sua figlia. Comovente. Proprio, una delle primissime persone che si era messa in contatto con me, dopo quella storica prima puntata qui, quando c'era... Che era un laboratorio salute. Sì, 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 laboratorio salute. Quindi, allora, dolci, zuccheri, cereali col glutine, latte di ogni, latte di ogni animale e derivati, provare a toglierli. Dopodiché, vediamo e lasciamo decidere a quello che può succedere, quello che la natura decide che può succedere. Io spererei perché sarei la persona più contenta del mondo di diventare papà. Anche perché come dieta ci siamo inquadrati specialmente su verdure, carne, andiamo come carne bianca, non rossa. Occhio ai dolci, occhio ai dolci, occhio agli zuccheri, ci si fa prendere sulla mano, anche dei famosi brutti e buoni, ci si fa prendere sulla mano. Anche e soprattutto dal cioccolato, è facile farsi prendere molto la mano. Quindi, va bene, forza e coraggio. Vago, ringrazio, grazie di tutto. Va bene. Grazie, cerchi di convincere anche sua moglie a essere scrupolosa come lei. Un attimo solo che recupero. Tanti auguri. Allora, intanto che il dottor Piero si va a fare un giretto, e quindi io sono sola, soletta, in trasmissione chiedo, per cortesia alla regia, di passarmi dritta, affilata, un'altra telefonata. Questa sera vedo che abbiamo fatto un po' la geografia d'Italia. Roma, Olbia, Varese, Sondrio. E magari mi gradirei anche qualche d'uno che ci segue un pochino più da vicino, anche dalla nostra cara Lombardia. Comunque da dove arrivano ci fa piacere. Dalla cara Lombardia, qua vicino, c'è questa mail di Pierangelo, spedita proprio quest'anno, l'11 gennaio, che mi dice, Greggio Dottor Mozzi, sono da qualche tempo uno spettatore incuriosito ed attento alle sue interessanti trasmissioni in televisione e mi sia concesso porgere i miei complimenti sinceri per la sua attività di medico fuori dal coro. E poi dice, come aveva detto il signore precedente, la malattia è la fase finale di un processo di alimentazione sbagliata e che purtroppo molti non riconoscono. Si propinano i farmaci senza curare le cause che generano le nostre risposte dell'organismo. Con i migliori saluti Pierangelo 1961, Cornaredo, Milano. Si, ci sono delle persone veramente in gamba eccezionali. Ma noi abbiamo dei telespettatori veramente bravi, in gamba, sono molto preparati. Il nostro è un pubblico abbastanza selettivo e quindi anche impegnativo. Rispondiamo alla prossima telefonata e sentiamo chi c'è in linea e da dove ci chiama. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera Dottor Mozzi, buonasera Antonella. Buonasera. Sono Francesca, chiamo da Brescia. Benvenuta. Volevo dire al Dottor Mozzi che sono del 74 e ho partorito la mia bambina all'11 di novembre del 2015 e ho partorito col nocciolo della prugna in bocca. Lei è del 74, ha detto? 74. 74, va bene. E che brava. Sì, sì. E seguo la sua dieta da parecchio tempo. Va bene. Volevo solo fare questa testimonianza. Quindi è stato un parto naturale, un buon parto? È stato, guardi, è stata una gravidanza abbastanza brutta perché ho avuto comunque delle minacce d'aborto e nessuno ci avrebbe messo nulla ma io sono andata avanti con la mia dieta del Dottor Mozzi e sono arrivata quasi alla fine. Poi ecco me l'ha fatta partorire prima perché non cresceva, non cresceva. Quindi ha avuto un cesareo quindi? No, mi hanno indotto il parto. Le hanno indotto il parto? Sì. E quindi lei aveva la prugna in bocca, il nocciolo di prugna. Il mio gruppo del sangue è A positivo. Sì. Lei quanti chili erano aumentati in gravidanza? Allora io sono alta 1,74, pesavo 53 chili prima di rimanere incinta e quando mi ha fatto partorire, erano tre settimane prima, quattro, ero 65 chili, per cui sono ingrassata 12 chili. Sì. E allora a cosa si era affidata? A quali alimenti in prevalenza? Alla fine in gravidanza io ho mangiato un sacco di legumi, broccoli, verdure. La mattina la mia colazione era a base di un centrifugato, so che lei non li ama molto però, il centrifugato con carota, ananas, un po' di zenzero oppure mela o finocchio, insomma quello che c'era, che comunque trovavo. E però ho mangiato carne di pollo, un sacco di verdura, tantissimi. Sì, sì, occhio, attenzione ai centrifugati, soprattutto dove c'è la mela, perché la mela ultimamente, poi viste le varietà di mele che ci sono in circolazione, che non sono più le mele delle qualità delle varietà antiche, che erano decisamente più collaudate per il sistema immunitario delle persone, e le mele è decisamente meglio cotte che crude. Ok. Decisamente, sì. Io avrei bisogno però di chiederle un aiuto, un consiglio, perché la bimba è nata piccina, non si è mai attaccata al seno, anche se comunque hanno provato anche in sala parto e tutto. Sì. Io sono attaccata dal tiralatte da due mesi, ma dormo un'ora e mezza al giorno. Ho avuto anche la mastite. Eh, ma se c'è stata la mastite, allora guardi, vuol dire che ha mangiato un po' di dolci con qualche crema dentro? Eh, allora no, quelli no, quelli no, perché io praticamente... Ho dei dolci, o se c'è stata la mastite come? E poi non bisogna lasciare attaccato il bambino proprio a lungo, perché se no i capezzoli si sfiancano... Ma la bambina non si è mai attaccata al problema che a me è venuta, secondo me, la mastite, perché il tiralatte... È il tiralatte che stimola molto. Eh, ma lì bisogna... È un po' aggressivo. Ma lì bisogna proprio fare in modo di avere un tiralatte che funzioni e come. Eh, l'ho comprato, però sono veramente devastata, non ce la faccio più. Poverina. Senta, la smetta di mangiare quei centrifugati lì, eh, però. Sì, ok. No, no, lasci stare tutta la frutta, se la dimentichi. Se la dimentichi e può recuperare anche in tempi abbastanza rapidi. Via l'ananas, via la mela, si faccia delle buone quantità del suo pesce, del suo pollo, delle sue uova. Ho portato qua il riso integrale, che il riso integrale ritengo che sia un alimento veramente eccezionale per la produzione di latte. Non quello bianco, eh, il riso integrale. Sapete come si cucina? Sì, 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 quello sì. Lo si sciacqua bene, tre o quattro volte, mescolando il riso e poi facendo debordare l'acqua. Poi lo si mette sul fuoco, una parte di riso, quattro parti di acqua, ossia un, tanto per dire, un bicchiere di riso, quattro bicchieri d'acqua. Ci si mette un poco di sale. Lo si mette sul fuoco, si accende appunto la fiamma, ci si mette sopra la pentola. Lo si porta a bollizione. Quando bolle, si mette sotto al tegame la piastra di ghisa spargifiamma. Non mettete la prima, se no perdete un sacco di tempo. Invece la mettete quando il riso comincia a bollire. Da quando il riso bolle, fate passare 20-25 minuti e sto sempre col coperchio che ci sia sopra, in modo che così il calore rimane molto più a lungo. Spegnete, lasciate lì riposare fino a che praticamente avete visto che ha assorbito tutta l'acqua e viene cotto benissimo. Ma bene, bene, bene. Perché se il riso integrale lo fate bollire anche un'ora intero, lo spegnete, lo mangiate, è ancora duro. E poi va a finire tutto nel gabinetto invece che essere assimilato. Quando poi lo cucinate, cucinate neppure in abbondanza. Poi ve lo tenete conservato in frigorifero, adesso che c'è abbastanza freddo, fuori dalla finestra. Quando vi serve, lo prendete, prendete la quantità che ritenete opportuna, lo mettete in un tegame più piccolo, ci allungate ancora un po' d'acqua, un pizzico di sale in più, lo fate bollire, che ribolla nel mezzo per 3-4 minuti. Questo diventa praticamente il riso integrale ribollito e che diventa come una crema. Ed ha la capacità di far produrre latte in un modo incredibile. Credo che sia veramente un'ottima possibilità per le mamme che hanno problemi di latte. Ma il mio problema è che io ne ho troppo di latte e che la bambina non si attacca, io non so più cosa fare. Appunto, per fare in modo che lei possa produrre più latte. Provi, riso integrale ribollito. Provi, oltre che a tutte le altre cose, al suo pesce, al suo pollo, al suo tacchino, che va bene a entrambi, quindi andrà bene anche a sua figlia. Sì, sì, ma di latte ne ho abbondanza. Le latte ne ha? È la bambina che non si attacca alla bambina? Eh, va bene, ma intanto facci in modo che lei possa avere il latte. Facci in modo da disinfiammare proprio le mammelle. Può fare sulle mammelle, adesso che siamo nella stagione invernale, quindi ci sono le verse, prende le foglie delle verse, le prende, toglie la nervatura centrale, le snerva un po' il resto della foglia e si fa un bello impacco. Quando non ha latta, soprattutto di notte, si faccia un bel impacco, quando non si toglie il latte, un bel impacco sulle mammelle. Ok, ok. E le verse hanno un grosso potere proprio anti-infiammatorio. Però si dimentichi tutti i dolci, tutti gli zuccheri e tutta la frutta, basta, niente, se li scordi. Va bene, va bene. Però può mangiare un po' di più perché in allattamento deve far fronte, soprattutto nel proseguo dell'allattamento. E lei riesce probabilmente a salvare le sue mammelle e il suo latte. E poi magari vediamo se sua figlia, man mano che riesce a crescere un po', riesce ad acquistare la forza necessaria per succhiare. Per una buona suczione. Ok. Tanti auguri. Grazie mille. Grazie. Grazie mille, bravissima. Vorrei dire a questa mamma e a tutte le mamme che allattano, che non è facile, eh, di non scoraggiarsi, quindi, le prime settimane. Ho visto tante lacrime. Attenzione, attenzione, proprio alle feste. È molto dura, è molto dura, però poi si rivelerà qualcosa di anche molto comodo e di grande soddisfazione. E poi si instaura un legame con il bambino che è fantastico. È un investimento per la sua salute, per tutta la sua vita. Quindi resistete, anche se è durissima. Chi ci è passato lo sa. Prego, dottor Mozzi. Leggiamo l'ultima, l'ultima bellissima lettera di Enzo, ossia Vincenzo, che mi scrive da Vibo Valencia. Buongiorno, dottor Mozzi, mi chiamo Vincenzo, sono nato il 7 agosto del 66. Il mio gruppo sanguigno è zero, positivo, tosti, è quello del gruppo zero del Leone. Vi scrivo dalla Calabria, esattamente da Vibo Valencia. Da settembre vi ho scoperto su internet e grazie a voi sto facendo un percorso di miglioramento. Prima di settembre pesavo 126 kg. All'inizio aveva sbagliato, aveva scritto 126 kg. Il colesterolo era 244 e la pressione è sempre alta. Il mio dottore di famiglia mi ha ordinato sia la pillola per la pressione che quella per il colesterolo e in più il CardiCore. Oggi, grazie a voi e alla sua dieta, vista sul libro che ho comprato e tutte le interviste fatte da Telecolor, il mio peso è 103. Che però poi ci siamo sentiti per telefono perché volevo avere la conferma di questi 200 kg che mi sembrava troppo, invece è arrivata a 99. Il colesterolo è a 100, l'HDL a 39, la pressione è regolare, 120 su 70. Tre glicerie da 56, glicemia 94. Tutte le analisi sono uscite bene. Non riesco a mettermi in comunicazione con lei, né con il telefono, comunque mi ha scritto. Ho scritto per comunicare la mia gratitudine e in più desidererei togliere un po' alla volta le medicine che prendo, in quanto il mio dottore di famiglia non vuole eliminarle. Dice che il mio colesterolo è familiare e per le altre medicine dice che adesso andiamo verso l'inverno e conviene prenderle. Ah, sì, vero, si dice così. Io, caro dottor Mozzi, desidero eliminare sia il CardiCore, la statina e la pillola per la pressione. Non so come fare, mi può indicare lei come fare, la mia e-mail, eh, vox e-mail dicendo vi saluto e vi ringrazio, auguro buone feste a voi, attendo a voi. Quindi, e c'è questo fatto, anche di fronte all'evidenza non si vuole prenderne atto. Questo signore, alimentazione giusta, corretta. Calo di peso. Ah, calo di peso. Calo di peso, calo di peso da settembre, quindi settembre, ottobre, novembre, dicembre, metà gennaio, quattro mesi e mezzo, ha perso 27 kg. Caspita. Quasi, quasi 7 kg al mese. E quello che bisogna sottolineare è che, sì, ci vuole un sacrificio, perché il sacrificio sarà sicuramente nell'essere seri e scrupolosi. Però non è che uno debba fare una dieta ipocalorica, quindi non avere niente nel piatto. Deve solo avere degli alimenti che sono corretti e che, di conseguenza, li faranno anche perdere peso. Sì. Giusto, no? Non è che uno deve mangiare niente, perché allora tutti perdono peso a non mangiare niente. Assolutamente. Deve mangiare bene i suoi alimenti. Quindi, le mele, le mele, non è detto che facciano così bene. Ne abbiamo parlato, no? Nei luoghi comuni. La mela al giorno, non è detto. E poi vi renderete conto che la frutta in allattamento non serve granché, perché non è così ricca di vitamine come la verdura. È decisamente meglio la verdura. È decisamente meglio le cicorie, i radicchi, la scarola, rispetto alle lattughe. Anzi, le lattughe, in genere, creano dei problemi all'intestino dei bambini. E qui che abbiamo questo bellissimo cesto, forse per richiamare anche la questione della frutta, la questione delle malattie invernali, malattie da raffreddamento, ricordatevi che la frutta ha una caratteristica ben diversa rispetto alle verdure, che contiene dello zucchero. E gli zuccheri, i dolci, compresi il fruttosio, d'inverno non sono il massimo. Quindi, attenzione, se dovete proprio, se avete voglia di mangiare della frutta, mangiatevela al mattino. E se decidete per le mele, decidete per le mele cotte. Le banane, sappiate bene che le persone di gruppo A e AB, è meglio che ci stiano lontane. Il pompelmo, bene o male, va bene a tutti quanti. Quegli altri, così, arancioni, insieme a quell'altra frutta arancione, a parte le persone di gruppo B per i mandarini, e a parte le persone di gruppo B per arance, mandarini e mandaranci, per il resto è meglio lasciarle perdere. Altrimenti, rischiate di trovarvi, nonostante magari le vaccinazioni, ad avere l'influenza. Perché, in natura, la frutta d'inverno non è prevista. Mentre sono, se adesso andate in giro, nei campi, negli orti, soprattutto, nei fruttetti, non trovate un bel niente. Ossia, trovate gli ultimi cacchi, che stanno, persistono, visto che l'inverno è stato mite, però hanno preso un po' di colpi di gelo e quindi non sono neanche più commestibili. Invece vi trovate, quest'anno, un'annata strepitosa, strabiliante per le verge. Ci sono delle verge che sono veramente fenomenali. Vi trovate i radicchi, vi trovate ancora i broccoli, vi trovate ancora i cavolfiori, che non hanno subito tanti danni perché il gelo è stato decisamente limitato. Ma le arance, proprio no, che hanno sempre... No, no, io non sto mangiando arance da quando ci siamo incontrati, quindi sono ormai più di un decennio. Perché io sono una delle vittime delle arance. Le arance, le persone possono fare la prova, poi benvengano le persone che vogliono fare le prove, anzi, io sollecito proprio le persone che vogliono fare le prove. Come raccontavo di quell'esperienza l'altro giorno, ecco lì intanto che aspettavamo di iniziare la trasmissione porta a porta, le due persone che avevano una la tosse, l'altra le mani gelide e ghiacciate che grondavano sudore, con tre mandorle, quelle belle, bellissime che si riescono a trovare ogni tanto in commercio, un po' che è ancora dentro il guscio, che però il guscio è stato un po' pelato, quindi lo si può aprire facilmente con le mani, con le dita, e poi le mandorle sono state tostate, un po' salate, tutti e due hanno sistemato una la tosse e l'altra le mani ghiacciate, ma in tempi rapidissimi, tutti e due erano di gruppo zero negativo, proprio in tempi strabilianti. E poi è bastato una minimo chewing gum, minimissimo, due grammi di Rob, per avere una un attacco di tosse parrossistica da far paura, e l'altra le mani che nuovamente grondavano sudore, ma neanche in cinque minuti di tempo. E i tuoi colleghi medici come hanno accolto questo tuo operato? Visto che stiamo parlando di porta a porta e ce n'erano... Se i colleghi medici, uno, forse riprendendo la risposta assurda a quello che non fosse altro che la ricerca di eliminare i cereali, diceva di stare attente a quelle due donne, perché le cose sono effettivamente valide se sono scientificamente provate. Diceva di stare attente a non ingannarsi con i propri sensi. Pensate, a che cose veramente stiamo arrivando? Oramai siamo arrivati al fanatismo della scientificità. Oramai si vuole credere solo, far credere solo ed esclusivamente a ciò che ufficialmente è scientifico. I nostri sensi, quelli che hanno guidato l'umanità da che è su questo pianeta, oramai li si vuole proprio esautorare dall'essere presi in considerazione. È incredibile. Una piccola soddisfazione, dottor Piero Mozzi, visto che non c'è stato grande modo di parlare in quella trasmissione, almeno però la moglie di uno di quei famosi è venuta a congratularsi e si è dichiarata sua sostenitrice, oltre che sua fan. No, ma per tutte le cose ci vuole tempo. Per tutte le cose ci vuole tempo. Sì, sì, sì. Ma credo che qualche dono abbia pubblicato... C'è anche il proverbio che dice tempo e paglia maturano le nespole. Non so, vecchio, vecchissimo proverbio che mi dicevano le nespole che sono non quelle del Giappone e che maturano, che si vedano a inizio bella stagione a maggio. Le nespole, quelle marroni, che hanno come quella coroncina che appunto per essere mangiate bisogna tenerle al caldo in mezzo alla paglia o in mezzo alle mele. Comunque, un nostro telespettatore, nonché tuo grande sostenitore, a proposito sempre di quell'incontro televisivo nel quale c'erano tante, forse troppe, aspettative, ma si sa che le dinamiche sono quelle, ha citato una frase di Schopenhauer che mi è piaciuta molto, che ha detto che le grandi verità, quelle che sono destinate a cambiare anche la storia dell'umanità, devono passare attraverso tre frasi. Io ripeto quello che ha scritto il telespettatore, non ho mai letto questo passaggio di Schopenhauer. La prima fase è il tentativo di ridicolizzare, quindi di buttare addosso anche fango. La seconda è una fase di grande aggressività, quindi di combattere aspramente. La terza fase invece è quella dell'accettazione, come se fosse una cosa, un dato di fatto ovvio. Ecco, speriamo che... L'ovvietà, la terza. Sì, sì, bravo, deve essere lo stesso, meno arrivato. È stata molto bella questa... Poche righe, bellissime. Tante, tantissime testimonianze davvero da conservare. Ma quella mi ha colpito. Vediamo di recuperarla. Bella davvero. Carlotta, a te cosa ti ha colpito delle telefonate? Che purtroppo molte donne cercano la gravidanza, ma anche in giovane età, e non arriva. Disperata. Questo è il dato drammatico, che purtroppo, in maniera un po' impietosa, le ricerche istate ci danno, in sostanza. Il nostro paese comunque ha questo saldo negativo ormai, ed è il primo anno questo, quello appena passato, in cui praticamente abbiamo un segno negativo. E se non ci sarà il ricambio generazionale, se non nasceranno più bambini, quanti vecchi e morti ci saranno, non sarà un bel futuro. Avremo un sacco di problemi, anche tecnici, oltre che, diciamo, di brutto impatto, perché una nazione di vecchi non è una buona nazione. È un po' come l'allevamento. È come gli allevamenti, ma è per quello che i talebani, quelli dell'Isis, la pensano diversamente, perché vedono che se no il pianeta va in malora. Quindi. Speriamo di non cadere dalla padella alla braccia, però. Avranno visto che l'Occidente, ecco, che le femmine nell'Occidente si mettono a fare i figli a 40 anni, allora loro si preoccupano, non è che si preoccupano a modo loro, è che non è proprio il modo, non è certamente il modo più corretto di preoccuparsi. No, no, se no siamo al rato delle sabine. Però. Allora, Carlotta, questo ha colpito, e credo che sia veramente il problema, il dato più grave. Sì, io ho portato alla conoscenza del dottor Mozzi, porto adesso una signora che è disperata, perché ha tre anni, che è in amenorrea, senza ciclo, e ha la sindrome dall'ovaio policistico. Policistico. Sì. E quanti anni ha questa donna? Una trentina, ma lei. Trent'anni. Va bene. E che gruppo ha del sangue? Zero. Zero. Le ovaie policistiche, o si è messa a mangiare carne e salumi di maiale, o mangia dei dolci cremosi, o anche tanto cioccolato, oppure è un appassionata di qualche tipo di latte animale, compreso quello di capra, e derivati, perché la causa delle ovaie policistiche è lì. E la menorrea? Ma la menorrea bisognerebbe sapere un poco di cose, sapere, sapere, ad esempio, l'altezza, il peso, perché a volte ci sta, perché quando c'è una persona, una donna, sotto peso, facilmente ci può essere anche concomitante una menorrea, però a trent'anni ci può stare, però lì bisognerebbe sapere un poco la storia, perché così dare dei giudizi senza sapere bene la questione, l'ovaio policistico ne parlo chiaramente, anche se la certezza non ce l'ho nel modo più assoluto, però mi sono capitate tali e tanti casi di donne che poi addirittura le ciste ovariche addirittura sono anche sparite, insomma, però la causa principale, io a mio modo di vedere e ripeto e sottolineo che a mio modo di vedere, ecco, sempre in base alla mia arte e alla mia esperienza e conoscenza, ecco, a mio modo di vedere credo che il latte, i derivati del latte abbiano una grossa responsabilità, poi, secondo luoghi, insieme a loro, praticamente, i dolci cremosi, gelati, creme, budini, torte, profiterol, cose del genere che adesso vanno molto di moda, panna cotta, tiramisù, cose, cose tremende. Anche quelli di soia? Ma, quelli di soia in genere non lo sono granché, però ci può stare, perché la soia, se uno è intollerante, può creare una reazione di un certo tipo e capitano delle persone. Quelli di gruppo zero, di solito, io a quelli di gruppo zero non consiglio di usare i prodotti a base di soia, se mangiano i ceci è molto meglio come legumi, se mangiano i piselli o i cannellini o i fagioli dell'occhio o le fave, credo che sicuramente sia meglio. Anche perché i prodotti a base di soia, il latte di soia c'è dentro tanta parte liquida e veramente parte interessante ce n'è, o se interessante, minerali, vitamine, proteine, non è che ce ne sia una grossa quantità. Però, può provare, certamente i cereali col glutine quelli lo diciamo a tutti quanti di toglierli essendo un gruppo zero togliamo anche il mais e poi vediamo. Però bisogna avere un po' di informazioni un po' più a portata di mano. Ho i dati, i numero, quindi dopo posso passare dal dottore. Magari sarà privilegiata questa signora. Dopo glielo passo magari tutti i numeri dalla signora. I numeri ho chiesto alle persone e mi raccomando ve lo ripeto se volete che continuiamo a fare queste cose, se volete che miglioriamo, se volete che diamo molte più risposte, pretendo, pretendo, non solamente voglio, pretendo che ci sia quello che vi ho chiesto. Quindi se viene rimandato sullo schermo quella tutta quella bella serie di numeri. Ma io penso che abbiano già segnato. Basta così. La mia domanda invece proprio sul filo del rasoio perché stiamo per finire riguarda una precisazione sul pompelmo unico tra gli agrumi consentito. Devo dire che no, insieme al limone. Il limone è quello però addirittura è terapia il limone. Il pompelmo è decisamente più valido più tollerato però se ci sono persone che hanno tendenza ad avere il freddo addosso che hanno tendenza ad avere raffreddamento delle mani per non arrivare fino a delle estremità per non arrivare a un vero e proprio sindrome di Renault morbo di Renault che si voglia dire in un modo o nell'altro lo stesso ci siamo capiti e allora in quei casi lì la frutta meno uno la vede meglio ha e poi se proprio uno vuole sicuramente ci può stare di solito quelli di gruppo AB col pompelmo ci vanno a nozze c'è da considerare che un pompelmo non è non è una cosa da poco ah sì la buccia bella spessa e corposa però sono sempre un tretti di prodotto quindi attenzione eh sì quello è particolarmente piccolo ma di solito sono molto più grossi sono dei globi per cui anche gli ananas tenete conto che sono tutti frutti che vengono dove c'è caldo è vero anche questo dove c'è caldo la frutta ragionate guardate usate il cervello fate appunto fate in modo che il vostro cervello funzioni tutte tutte le conoscenze che avete che avete acquisito poi adesso con gli strumenti informatici si può avere tutte guardate andatevi a leggere dove viene coltivato l'ananas dove viene coltivato il pompelmo dove vengono coltivati i mandarini dove vengono coltivate le banane andatevi a leggere che temperature medie ci sono in quei posti quindi per loro è consentito o sarà una regola generale universale di non mangiare di non eccedere mai con la frutta cioè per le popolazioni che abitano in questi posti esotici anche perché la frutta se la gente poi mangia la frutta di sera va a letto e rischia di trovarsi dei crampi poi gli dicono mangia le banane perché c'è i crampi e poi perché contengono potassio perché poi se uno di gruppo A o B mangia le banane si trita si fa pezzi anche lo stomaco quindi c'è tutta una serie di storie a cui bisogna ma ve l'ho detto fate un giro nell'orto vicino a casa vostra o se l'avete a casa vostra guardate che cosa cresce negli orti adesso a gennaio basta ci sono le barbabietole rosse da mettere quelle da cuocere sotto la cenere chi ha il cammino oppure altro che le barbabietole rosse vanno bene benissimo a tutti quanti poi è gruppo B è gruppo A B veramente ci vanno ci vanno a nozze allora le barbabietole rosse che poi se i bravi ortolani invece che lasciarli nella terra che poi rischiano di marcire o se nevi che sono coperte dalla neve si raccolgono non si puliscano dalla terra li si lascia attorno un po' di terra si prende magari se uno ha una cantina fa un angolo della cantina che in genere sono abbastanza umide ecco e le mette in terra nella sabbia leggermente umida poi si prendono quando si vogliono usare si spazzano bene si può togliere la pelle che sa sempre la buccia che sa sempre un poco di terra la si fanno a pezzetti e la si possono mettere a pezzetti in questo modo nel forno fatti così a striscia a pezzetti con un poco di magari di di spezie o cose varie di salvia o di rosmarino vi dicendo niente olio se proprio uno vuole renderle ancora un pelino più dolci che poi tanto evapero ci si può mettere un poco di vino dolce oppure non lo so un succo di mela ecco tanto per dire oppure quel concentrato di mela che fanno in certe zone del modenese fanno la sappa che è questo concentrato ecco che poi tanto evapero rimane appena appena e diventa una cosa strabiliante diventa un vero e proprio dolce perché poi già un po' la barbabietola rossa lo contiene ed è veramente buonissimo altrimenti chi ha la stufa legna alla sera quando prima di andare a letto le spazzola lì non togli la buccia perché sennò perdono molto succo e dopo vengono fatte su nella stagnola messe nelle bracci non proprio sulle bracci molto accese ma appena appena alato e al mattino le tira fuori e uno mangia del zucchero candito bene allora consacriamo questo primo mese e questa nostra prima trasmissione ha due alimenti preziosi il riso integrale per chi è in allattamento è un alleato e la barbabietola invece un po' per tutti sì le barbabietole cosiddette rape rosse tenete conto che qua tra gli ortaggi che adesso è stata soppiantata dalla patata ma qua la patata non ha mai avuto niente a che vedere con l'Europa le patate le patate in Europa d'inverno erano sostituite dalle rape le rape quelle tutte bianche o quelle dal colletto viola ortaggio resistentissimo resiste alle gelate proprio anche in primavera dopo germoglia subito e producono delle foglioline verde ricchissime di vitamine quindi bene sangue di rappa ma la rappa rispetto alla patata ha delle proprietà decisamente superiore non ha tutto l'amido delle patate tremendo e terribile per glicemie pance gonfie fermentazione e tutto quanto per i crampi se le persone vogliono avere dei crampi d'inverno si mangiano prima una patata o due e poi si mangiano un frutto e poi vanno a letto e li si spaccano in due le gambe dei crampi non è provato scientificamente ma praticamente ma in pratica lo potete comunque sperimentare in pratica i crampi anche se non vi dicono che è un crampo con l'attestato scientifico è un crampo quando avete il crampo vi prendete vi alzate e se non ce la fate lo fate fare a qualcuno se siete se vivete con qualcuno andare in cucina scaldare un bel bicchiere d'acqua calda quasi bollente e intanto che l'acqua scende si scioglie il crampo tutto lì consiglio per tutti anche per quei uomini di scienza che se non hanno l'evidenza scientifica non accettano nessun consiglio allora vi ringrazio tutti quanti voi per l'attenzione da casa e il grande affetto con cui ci seguite sempre anche l'attenzione e tutto quanto che ci gratifica Carlotta per il suo impegno grazie a lei gravoso con le telefonate il dottor Piero Motti come vi ha ricordato che lavora tutto il giorno della mattina presto e quindi anche per lui è un impegno venire qui e essere in trasmissione con noi e anche il mio staff che è sempre molto attento ah ecco ecco già adesso l'ultima cosa c'è un'ultima cosa nella tre giorni che abbiamo fatto è stato presentato un pezzo di Louis Armstrong la via rosa che ci vedeva lui ecco brutto come il fumo perché in effetti è una pessima versione della via rosa invece adesso cerchiamo di ripagare di ripagare con la sua tromba ecco ah quindi ci dà la buonanotte con questa bella melodia qua calma tranquilla è una tromba molto bello davvero vi ringraziamo tanto arrivederci la prossima puntata di Box Salute sarà in maniera regolare vero? la seconda settimana no no regolare mi informo quanto è arrivato oh mio dio siamo sotto ricatto questo qua è un ricatto terribile sono 12 anni che facciamo questa trasmissione credo che un riconoscimento minimo ecco ma noi siamo già grati grazie davvero ci vediamo no no è già pronto ho già anche il titolo della prossima trasmissione ah sì va bene ci tieni a saperlo? sì anche i magri si ammalano va bene dai questo mi piace moltissimo e io sono dall'altra parte dalla fonda di quelli che non hanno mai avuto l'ebbrezza di essere magri magri ma veramente magri va bene allora meno di un mese questa volta perché abbiamo sfalzato un pochino ma rispetto puntuali siamo giusti siamo lì davanti e siamo lì lì proprio sì un pochino saremo già in quaresima e magari il tempo galoppa e già penseremo alla Pasqua e dobbiamo ancora dimenticare il Natale e magari ci troveremo la neve che non è arrivata finora vediamo vediamo perché anche questo tuo senso per la meteorologia è molto interessante e purtroppo anche molto realistico Santa Bibiana ci ha preso ci azzecca sempre dottor Mozzi allora se non succedono tutte queste cose comunque noi siamo qui puntuali a aspettarvi citerei molto davvero che ci faceste questa volta con scrupolo sapere da dove ci seguite dove avete problemi di segnale e soprattutto il nostro canale quello diciamo così nazionale che arriva perlomeno fino in Lazio se funziona bene a intermittenza tutto quanto lo streaming andava stasera? a tratti a tratti allora hanno ragione loro a tratti ecco allora protesteremo protesteremo anche noi perché siamo anche noi vittime di questo cattivo servizio grazie ancora presto sigla grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti